è sotto, non è proprio del tutto uscito, comunque vabbè, acqua in bocca, ecco arriva il mullà in partenza, in partenza, preciso arrivo, buonasera, ciao Simone, presentiamo l'ospite di stasera che è un nostro follower, uno dei più accaniti direi perché in tutte le foto c'è il mi piace di Simone Velasco, io vedo il mi piace in tutti i post di Instagram di Simone, io non ho la pienezza del mio giorno, Simone, ciao, come stai? Giusto, mi sembra, benissimo, dai, siamo qua a ritiro con la squadra e abbiamo ancora l'ultima settimanetta di lavoro prima di tornare al freddo di casa e quindi dai, per ora va bene, finché non siamo al freddo, tutto a posto. Mullà, puoi partire te con una domanda subito, visto che, non lo so, così, a freddo te la chiede. Aspetta, dammi un attimo a ambientà, vai, che non mi funziona anche l'audio, no, fra l'altro non ho sempre i soliti problemi che non capisco. Vabbè, allora ci saranno due temi caldi, no, Simone, stasera, Simone corre nella stana, per chi non lo sapesse, insomma, però ci saranno due temi caldi stasera. Ho messo anche la maglia, vedi, così almeno si sa, non si sa mai. Sì, non si sa mai, no, però la gente qua è istruita, perché considera che noi abbiamo follower che sanno il settore esatto in cui Van Barle è partito alla Roubaix, cioè gente malata, no, insomma, c'è il quiz ogni tanto e la gente... Non lo sa neanche Van Barle, eh? No, assolutamente no, assolutamente no. E dicevamo, ci saranno due questioni principali per cui sei stato chiamato stasera. Una è per quanto riguarda la tua nuova veste, no, di padre, possiamo dirla, no? Perché da poco sei diventato babbo. Poi dite padre o babbo? Papà. O papà. No, io dico babbo, perché dall'Isola d'Elba dico babbo, quindi all'Isola d'Elba si dice babbo. Giusto, giusto. Poi c'è un po' di combattimento in casa perché la mia ragazza è di Bologna, quindi lei papà, io babbo. Ma voi siete... ora, o di una strozzata, io so, essendo toscano poi dico una cazzata. Isola d'Elba è in provincia di Livorno? Sì, provincia di Livorno. Sì, ok, io sono pisano, però me ne sciega più di tanto. Si sente un po'. Guarda, si sente, però, però attenzione, Fornacette, che è il paese mio d'origine, in realtà, come dialettica, siamo più vicini al Livornese, non tanto al Pisano. È vero. Ti dico la verità, ti dico la verità. E ti dico anche che Colle Salvetti, che è comunque... Colle Salvetti, dove è? Pisa. Secondo il Livorno? È una domanda da un milione di dollari questa. All'aspetto, c'è un paese... Secondo dove è Livorno, Colle Salvetti? C'è un paese, tra Vicarello e Colle Salvetti, che sono più sani, ma parlano livornese, cioè, quindi, poi, questa differenza di provincia, c'è, ecco. Colle Salvetti e Livorno, vedi, subito, ecco, mi correggo. Allora, ragazzi, Vicarello invece dov'è? Guardate, Vicarello, un attimo. Ah, scusa, ma siamo a Noi TV, RTV38, che è, canale 50. Mi fai paura a seguire, no, ragazzi. Allora, vabbè, insomma, questo è il primo motivo. Il motivo è perché sei padre, babbo, chiamiamolo che ti pare, e poi ti faremo la domanda al riguardo, no? Poi se entra Scimolaia dopo, se si fa anche a lui. E l'altra è, indubbiamente, perché questa settimana la Stana, nella Stana, è successo un po' un terremoto, no? Tra virgolette, e quindi magari, se ti chiederemo se sai, hai delle indiscrezioni o meno, insomma, vedremo, vedremo. L'ora, parti, io ho fatto un intro. Anche in chiave mercato bisogna chiedere, perché si sa qualcosa, visto che si vocifera di un grande nome per la Stana, per la prossima stagione. E io ho già visto dei commenti che dico, sì, ma il treno? Eh, ma si organizza, in qualche modo si fa. Il treno c'è la freccia dell'Elba, che fa più o meno marittima a Firenze, in un'ora e mezzo, no, scherzo. Un'ora e mezzo. Bisogna sentirsi a lui va bene, eh, però, perché non so se quel treno lì va bene. Comunque, vai, Lore. Senti, la prima domanda per Simone. Io ho trovato una tua intervista d'inizio 2022, in cui dicevi che con la Stana potrebbe essere, poteva essere il tuo ambiente ideale. Ti riconfermo dopo una stagione se, appunto, sei dello stesso parere. E poi la seconda domanda è che tu al primo Tour de France che hai corso l'anno scorso, hai fatto top 30, cioè sei arrivato a trentesimo davanti a un certo Stefan Kung. Quindi, tanto per fare un nome che piace molto a uno di noi. Quindi, che esperienza è stata questo Tour così duro come quello di quest'anno? Allora, partiamo dalla prima e sicuramente confermo quanto detto nell'anno precedente, perché devo dire che comunque qua in Astani mi trovo molto bene e oltretutto sono riuscito a fare un calendario, direi, disegnato appositamente per le mie caratteristiche e quindi rimango sempre dello stesso parere. Per quanto riguarda il Tour, vabbè, il Tour è una grande esperienza sicuramente e penso la massima gara a cui un professionista possa ambire. È stata una grande emozione dalla partenza di Copenaghen all'arrivo sui campi Elisi e fortunatamente è andato, tra virgolette, abbastanza bene in quanto sono riuscito a fare, quanto mi era stato chiesto, dare una mano nei momenti in cui dovevo a Luzenko, che era il nostro capitano. Ora, in teoria, il prossimo anno non dovrei fare il Tour, dovrei più spostarmi qua in Italia e quindi vediamo, però se ci sarà modo di ricorrerlo sarà sempre una nuova grandissima esperienza. Dovresti fare il giro d'Italia. Teoricamente sì, poi non sono mai ben definite le cose perché c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo, però partiamo comunque con il presupposto di fare il giro quest'anno. Infatti ti chiedeva il Monticello che sensazione è essere il primo italiano e arrivare al trentesimo, da una parte c'è anche una piccola soddisfazione di essere il primo italiano, dall'altra il fatto che comunque dimostra che purtroppo quest'anno non abbiamo avuto uomini a classifica, perché con tutto rispetto per te sicuramente non sei un uomo da GC. No, ma allora, guarda, io l'ho scoperto a Parigi di essere il primo italiano e che ero trentesimo, perché non lo sapevo neanche. Ovviamente quando parti con dei ruoli disegnati in squadra cerchi di fare il tuo e di essere, diciamo, una pedina importante per la squadra. Quindi poi il trentesimo posto, che non sta a dire niente, è una cosa che viene di conseguenza a quanto è stato richiesto dalla squadra. No, rispondo perché l'hanno già chiesto dati. Ragazzi, Filippo Dati arriva. Diciamo che era già entrato, però l'abbiamo un attimino messo in disparte un pochino. Però era già... Il congelatore. Si può essere il congelatore. È già carico, Filippo, è già carico. È vivo, è vivo. Detto questo, io farei subito una domanda un po' così, un po' stuzzicante. Dai, per Simone. Lopez. Allora, ha fatto... Allora, te c'è corso insieme fondamentalmente l'anno scorso, anche se magari non so quante gare c'è fatto insieme, però ritiro, qualche allenamento, qualcosa ci avrai condiviso con Lopez. Che corridore è? Prima di arrivare... No, devi dire che personaggio è, semmai. Il corridore si sta. Che personaggio è? E soprattutto, ti ha mai offerto un viaggio nella sua Domo Super Lopez in Colombia? Cioè ti ha mai detto, guarda, vorresti... vorresti andare, vuoi venire, ti offro due giorni su cinque, non lo so. No, allora, vabbè. Ora, sappiamo tutto questo movimento che c'è stato nell'ultima settimana e io oltretutto l'ho scoperto dai Median, perché sinceramente non è che ne abbiamo parlato qua in squadra e non c'è neanche niente a riguardo. Io posso parlare solo per quanto l'ho conosciuto a livello personale, per me è sempre stato un bravo ragazzo e non ho niente da dire. Poi io non vado sicuramente a fare l'investigatore privato o a mettermi a cercare cose che non sono di mia competenza. Io ho fatto la Tirena con lui, ho fatto abbastanza corsi anche lo scorso anno insieme e niente, è sempre stato, penso, come poi tutti siamo dei corridori professionali, poi dopo io quello che c'è al di fuori sinceramente proprio non so e non so neanche chi è che lo possa sapere, quindi non saprei neanche veramente cosa dirvi. Lui di sicuro lo sa. Però la domanda l'hai fatta male, perché ora sembrava collegata a questa cosa che è successa, invece a noi non ce ne frega niente di questo fatto. No, a noi infatti in realtà... Cioè, a noi è il nostro idolo e rimarrà comunque uno dei nostri pupilli. No, è il nostro idolo, Simone. È il nostro idolo, perché l'anno scorso, l'anno scorso, perché ormai è un anno che dura questa roba. L'anno scorso, quando partecipò al Giro d'Italia, che si è ritirato dopo pochissime tappe, no, è quest'anno, ragazzi, va adesso un po' di... Quest'anno ha fatto solo l'Ungheria e poi si è ritirato. Sì, quest'anno, quest'anno, perché l'anno scorso, nel senso, ha inizio stagione, insomma. Ha fatto il Giro, dopo tre, quattro tappe, insomma, si è ritirato e lui, c'è la leggenda che non narra, perché in realtà che lui ha preso il cellulare e ha iniziato a postare queste foto del Domo Super Lopez, praticamente cinque minuti dopo essersi ritirato. La Domo Super Lopez, te dovresti conoscerla, perché essendo nell'ambiente astana sicuramente non avrai sentito parlare. Però l'abbiamo scoperta noi, così ci prendiamo il merito. Poi il Magrini l'ha riportata in televisione, eccetera, eccetera. e si è scoperto che lui, insomma, ha questa casetta, questo bungalow fatto per bene, insomma, tutto immerso, lo chalet, diciamo, un po' artigianale, immerso nella foresta colombiana a duemila e bassa metri, che affitta. Praticamente è proprio un business, perché lui ha sponsorizzato tantissimo, da quel momento che si è ritirato, ha sponsorizzato tantissimo sta casa. E noi così ci siamo inventati tantissime discussioni e è diventato il nostro idolo. Poi, a prescindere da quello che possa essere successo, ora lui e lui vanno per vie legali, però a noi ce ne sbattiamo le palle di quello che è successo. Lui ci interessa il Lopez imprenditore, i cappellini e la casa in affitto in Colombia. Questo è il Lopez che ci interessa. Allora, io per quanto posso dire di Miguel che l'ho vissuto come compagno di squadra, anzi, da classico colombiano è un ragazzo più che divertente, ci chiaccheri bene, ci scherzi, anzi, io l'ho invitato all'Isola d'Elba per andare in mountain bike, quindi all'ultima corsa dell'anno. Questo ve lo posso dire. E ha accettato anche l'invito, io poi ora... Allora, se viene all'Isola d'Elba, diccelo che gli si fa il posto di blocco, suona male. Gli si fa... Eh, no, suona male. Gli si fa una sorpresa... Nel frattempo, attenzione, eccolo. Gli si fa la sorpresa al porto di Livorno. Vediamoci insieme... Ma è a Piombino? Ma tu all'Elba non sei mai stato, scusa. Vabbè, anche da Livorno ci si arriva all'Elba. Sì, scusa, mi fai da Piombino, mi piego meno tempo. Come no? Mi piego meno tempo a Piombino. Che figura. Stato due volte a me, stato due volte. Capolibere. Deve sei andato a nuoto, forza. Stato a Capolibere in questa strada e poi... A Livorno vai, uno in Corsico, in Sardegna o alla Capraia. Cioè, non è che... Esatto. La regione anche te la regione, è vero. E te lo dice un piemontese, vabbè. Io sono in A. A Simone. Vai, vai, vai. Ma questo intanto l'avevamo già anticipato prima, tutto il resto. Ma adesso si sta parlando tanto di Cavendish, Cavendish. Ma un corridore che vi entra a ritiro già avanzato, un corridore di una certa esperienza, un corridore che sa, che vuole fare il Tour de France per vintere una tappa e basta. Cioè, quanto vi crea come Tarlo in testa? Allora, io anche questa è una cosa che apprendo, che ho appreso sempre dai media nelle ore passate. Perché sinceramente... Avete celato? Cioè, al tavolo avete parlato di Cavendish? Io l'ho saputo, ti posso giurare, l'ho saputo stasera che me l'hanno detto che era uscita questa voce qua al tavolo con i corridori. Ma non si sapeva, io non sapeva rapidissimamente niente di niente. Oh, poi se lo è, che benvenga. C'è sempre un campione che fa parte del nostro team e sicuramente può essere sicuramente di aiuto, soprattutto per la nostra stagione. Anche perché comunque la scuola Astana non è che ha avuto velocisti puri di livello. Cioè, voglio bene ad Andrea Guardini, ma Andrea Guardini, cioè, non è Cavendish. E sappiamo che fine fa. Eh, o quello poi ci sarà modo di adattarsi e di trovare il modo per rendere competitivo il treno nel caso che dovesse essere. Altra domanda è una ipotesi, perché per ora stiamo parlando di aria fritta, quindi sinceramente... Sì, finché non c'è la firma, giustamente. Esatto. Però sai, l'ha detto Vino Okurov, quindi è uno che nella stana conta un po', e la domanda ce la siamo fatti. Cioè, non è che... Ok, però non so chi è che l'ha detto, a noi non ci ha detto nulla. Vino, vino. Eh, cosa ne pensi della canzone rap della stana, ti chiedo? A io non sono stato interpellato, quindi... Puoi dire tranquillamente che fa a cagare, eh. Puoi dire... No, è una cosa simpatica, dai. No, no, ci sta, ci sta. C'è stato qualche intartagliamento ogni tanto durante le prove, ma... Allora, ti volevo fare un'altra domanda. Questa è un po' seria sul mercato della stana, visto che si è parlato di cavi. C'è a stana, a casa sta un team, a te si sta a stana, a casa sta un team, yeah. Ce l'ha come suoneria, Marcello, tra l'altro. Sì, sì, assolutamente. No, c'ho People from Ibiza, però questa mi piace. Mi piace l'accento messinese-cazaco. Esatto. Allora, no, volevo chiederti, con la dipartita di Lopez, diciamo così... La dipartita no, non l'accento. No, non l'accento. Dipartita veramente... Cioè, dipartita... Dalle parole del dottor Caratini, oggi. Dipartita non lo posso accettare. È stanco, è stanco. Visto l'assenza ormai risaputa di Lopez, che non farà parte della squadra nel 2023, e Nibali, che chiaramente si ritira a fine anno, o si è già ritirato. La stana è effettivamente uomini da classifico, uomini che possono fare qualcosa nelle salite, nelle grandi tappe, a parte Luzenko, che però in live con noi ha già dichiarato che probabilmente non punterà a nessun traguardo, diciamo sì, il prossimo anno, se non guarda una settimana. Non è che c'è una falla, un buco grosso da quel punto di vista, lì in squadra? Domanda un po' stronza. Ma, quello sicuramente abbiamo tanti giovani che stanno crescendo bene. Ora, essere competitivi già nelle classifiche generali dei grandi giri, magari non è così facile, è di prima acchito, però quello che conta poi una squadra è anche essere competitivi non solo nella classifica, ma anche nelle tappe. Cioè, essere presenti a livello di team e di farsi trovare pronti quando serve alle corse. Ora, ovvio, la classifica generale dei grandi giri fa sempre a colino in bocca a tutte le grandi squadre. A Stana ha vinto tanti grandi giri, però penso che possiamo fare molto bene anche al di fuori dei grandi giri, quindi compensare un po' questa, diciamo, lacuna. Se tu dovessi puntare, se tu giocassi a Fantasy Hiking e dovessi puntare su qualche giovane interessante in Casastana, chi compreresti? Ma, a livello di scalatori? Ma, in generale, c'è chi è che può portare dei risultati, a prescindere poi che sia non salita in GC o in gare di un giorno? Ma Battistella, sicuramente, non è più una novità ormai, Battistella, che può essere una delle sorprese del prossimo anno. E poi abbiamo anche qualche giovane come il, non lo chiamiamo, ma Sciste, perché veramente è un colosso. Il nostro nuovo innesto. Velocista? Sì, Siriza. Siriza, Cleb. Siriza, ah, ok. Che sicuramente in qualche volata può dire la sua. Per quanto invece riguarda le salite, anche un Teada, un Pronsky, che alla Velt hanno ben figurato, penso che possono portare dei punti importanti a... Su Teada abbiamo perso un po' le speranze noi, però speriamo che il prossimo anno sia il suo. Come sta? Chiedo scusa, è un po' la tua attesa. Come? Moscon. Questa è la stagione del o tutto o niente? Ma Gianni, sai, tutti i corridori hanno sempre un po' un anno buio ogni tanto e capita. Gianni comunque ha dimostrato di essere un gran corridore e direi anche un campione, perché presentarsi comunque in certi ordini d'arrivo che possono il mondiale, sono la Roubaix e sono tante altre cose dove è stato competitivo. Penso che abbia tolto ogni dubbio. Ora, quest'anno si sta allenando bene, ha impostato la stagione per partire già bene, quindi sono sicuro che possa tornare sui suoi standard e non è un anno storto che deve far cambiare l'idea che abbiamo su di lui. Chiedono delle scritte sul San Luca, però penso che tu hai già risposto in pratica che la tua ragazza è di Bologna, quindi deduco che le scritte... perché hanno detto che oltre alle scritte di Pantani c'era solo Velasco. La sua ragazza va a scrivere col petto con lo spray sul San Luca. Sinceramente che va a scrivere è mia mamma, perché vi dico questo. Sono nato a Bologna, ho vissuto sempre all'isola d'Elba e sono residente a San Marino, adesso abito a San Marino. Quindi mi sono trasferito di nuovo a Bologna per le superiori perché volevo fare una scuola che all'Elba non c'era, volevo fare il tecnico aeronautico. Pensate, uno di mare che vuole andare con l'aereo, però. E quindi anche tutti gli amici di scuola li ho... Gli bettivi. Sì, esatto. Infatti abbiamo anche uno scambio con Paolo al Mondiale 2013. Io ero convocato con la Nazionale Junior e appunto parliamo un po' di... Aeronautica. Di aviazione, sì. Quindi mamma scrive le scritte Velasco, quindi ha quasi raggiunto il numero di scritte di Pantani. Esatto. Il prossimo anno vogliamo il pareggio. Quindi il prossimo anno faremo, prima del Giro dell'Emilia, o comunque se ci sarà qualche... No, credo il Giro... Attenzione perché il Tour, no, il Tour party non ci arriverà mai. No. Però il 24 arriva a Bologna. So che c'è una tappa che arriva a Bologna il 24. Sì, nel prossimo anno, però in teoria non dovrebbe arrivare sul San Luca, però vediamo. Se arriva sul San Luca, lì si mobilita tutta la community per cercare di scrivere più volte Velasco rispetto a qualsiasi altro... Sì, assolutamente, assolutamente. Lore, vuoi fare qualche domanda a Simone? Leggevo i dati di Sirizza, secondo Pro Cycling Stats, 22 anni, pesa 85 kg e alto 1,89 kg. Adesso capisco perché lo chiamate maciste. Marcello Piazzano, uguale. Attenzione, attenzione, provocazione. Io sono 1,81 per 79 kg. Quindi vuoi dire che sei più in forma di Sirizza? Sta dicendo questo? Sì, sì, grazie al padel. Allora, io arrivo dopo 21 minuti al momento, poi se interaccimo live la faccio anche a lui, però è il momento di fare la domanda che ormai ci tiriamo dietro da un anno e passa. Allora, tutto nacque dal fatto che, secondo me, io dissi la mia, poi magari è una stronzata o no, quello non lo so, però qualche corridore mi ha dato ragione durante le live precedenti. Durante un fare giro quest'anno, no, forse l'anno scorso, durante le volate, insomma, si notò determinati comportamenti e io dissi, vabbè, è chiaro ragazzi, quando uno diventa padre, determinati rischi, secondo me, ne prende un po' malvolentieri. Cioè, frena un pochino di più, cioè, non c'è niente di male a dirlo, no, soprattutto un velocista, no, che va a fare spallate ai 70 all'ora e con delle curve magari a gomita, a 50 metri all'arrivo, insomma, uno ci pensa due o tre volte a rischiare una caduta brutta, soprattutto, se si è padre, no, e venne una battuta e poi c'è nata una leggenda, insomma, libri, cose, quindi io la domanda la te la faccio a te, non sei proprio un velocista, quindi la domanda magari non è proprio quel settore lì, però il fatto di essere padre fa sì che il freno venga toccato un pochino più con attenzione, si prende un pochino meno rischi, c'è un po' più attenzione al riguardo o no? Allora, io ho sempre tirato i freni in volata perché ho sempre avuto un po' un po' di paura, ma non tanto di cadere io, ho sempre paura di tirare in terra gli altri, è quello che mi preoccupa a me. Allora una volta diventato babbo e dico, sai che c'è, anche se gli altri vanno in terra mi importa una sega, come si dice da noi, quindi per me è alla rovesta. È una bella risposta. È una bella risposta, però, correggimi se sbaglio, c'è un pensiero in più nella testa o no? Ma quando ti dico, io quando sono sotto sforzo, vabbè che ora ne ho fatte due di gare che ero diventato babbo e oltretutto la prima che ho fatto mi sono sdraiato, quindi diciamo che io i freni non li tiro. Ecco, aspettiamo Mark, Mark, ciao, senti, Velasco no, niente, allora ti tira niente. No, però sicuramente, ecco, per quanto riguarda invece l'allenamento che sei sulla strada e tanto, tante altre cose nei momenti in cui non serve, quello sicuramente hai un occhio di riguardo, se devi tirare un pochino più il freno lo tiri, di certo non vado a fare le gare in discesa in allenamento o se mancano 100 km non vado a fare spallate con qualcuno perché mi sintestardisco, cosa che magari prima avrei fatto. Ecco, questo è obbvio, sì. Quello sicuramente, metti un po' di coscienza, dai. Sì, sì. Però quando è ora la vena si chiude, quando la vena si chiude... Allora, parlando di vena si chiude, io andrei allora sulla domanda ancora di vena ironica, direi. C'è qualche corridore che poi ti diciamo perché con cui hai litigato o ti si è chiusa la vena per degli atteggiamenti che sono stati sbagliati verso di te o in corsa o che hai visto che non ti sono piaciuti? Cioè, ci sono dei corridori che ti stanno sulle palle? Allora, quando si fa fatica praticamente tre quarti del gruppo ti sta sulle palle. Quindi sempre. Però al tour, ragazzi, al tour c'è da mettersi il coltello tra i denti e sei a litigare ogni tre per due. Subito, la prima tappa era un po' ancora acerbo, non sapevo come comportarmi. Ho chiesto a Fellini e ho detto ma ascolta, qui mi passano tutti da tutte le parti, com'è che devo fare? Posso andare anche io e farmi rispettare oppure non so? Vai, vai, non ti preoccupare. Come ho detto là ci penso io. C'è un leggero ritorno, Marcello, ti ho mutato io perché c'è un leggero ritorno nel tuo audio, non so perché. Forse il volume è un po' alto. Sì, non lo so, c'è... poi ti facciamo la domanda più specifica sul finale perché tra un pochino ti facciamo la domanda più specifica del perché collegandolo poi all'Opez ti chiediamo se c'è qualche corridore che comunque ti sta sulle palle però poi dopo ci torniamo. Vai Lore, chiedi pure se le hai qualche domanda. Voglio chiedere di Fedorov perché se ne parla molto molto bene e quindi che impressione gli ha fatto in questi primi giorni di ritiro e cosa potrà fare nella prossima stagione. Campione del mondo Under-23. E appunto, poi una domanda sugli Under, ricordamela. Ok, allora, il nostro buon Fedorov penso che abbia dimostrato al Mondiale le doti che ha. Potrebbe essere un'altra bella scoperta per quest'anno nelle classiche o sicuramente in qualche fuga anche perché non ha paura di prendere aria in faccia anzi forse ne ha troppo poca di paura e io non sono in gruppo con lui di allenamento quest'anno perché sono in un altro gruppo però mi hanno detto tutti che è bello competitivo e allegro quindi speriamo che ci faccia divertire quest'anno. Marcello, la domanda su Younger? Parlando, pensando a Fedorov e tutto il resto ma secondo te bisognerebbe abbassare l'età del Mondiale Under 23 cioè bisognerebbe passare secondo te a un Mondiale Under 21 visto che ormai ci sono corridori di 21-22 anni che sono competitivi anche con i big 19 ma quelle devono essere regole cambiate a livello di UCI perché magari può tornarci comodo per il movimento italiano cioè io la dico così io dico a mio parere se uno dovesse competere in un Mondiale Under 23 allora dovrebbe essere massimo di livello categoria continental perché già professional o world tour comunque fai tutt'altro calendario rispetto a un dilettante che corre appoggio alla cavalla per dire appoggio alla cavalla c'è però per dire appoggio alla cavalla è una cosa che io me la sento rintuonare da anni perché c'è sempre questo Mondiale di appoggio alla cavalla che da quando sono dilettante che mi rimbomba nella testa no che tutte le volte che magari facevi qualcosa non è mica vinto appoggio alla cavalla non saresti per Under 23 diciamo cioè non non saresti per l'abbassamento no io per l'abbassamento no però secondo me dal mio punto di vista se un ragazzo ha 22 anni va a fare un un tour o un giro o una vuelta perché mi deve andare a a correre con dei ragazzi che corrono al palio di Resciotto per dire per levare dal poggio alla cavalla che dalle nostre senti visto che qui dobbiamo già ovviamente prepararci per le leghe chiedono il tuo programma di gare per l'inizio stagione sai già che corse farai allora teoricamente parto un po' più tardi rispetto a tutti gli altri perché inizio la Provence sempre che si faccia dopo Provence Gran Camino in Spagna e poi tutta l'altra fila delle gare in Italia quindi strade bianche la Eguella è in forze vediamo se anche in base alla condizione e sicuramente strade bianche Tirreno Sanremo e dopo vedremo se tirare un po' il fiato per preparare al meglio il giro oppure andare comunque ai Paesi Baschi e fare Arden e poi giro Allora io ti chiedo una cosa tecnica Simone il tuo migliore anno se non sbaglio è il 2019 anche da dati insomma Prosa Cristaz dove hai vinto appunto il in L'Eguelia correvi nella Neri Sottoli può essere sì esatto ok hai vinto l'Eguelia poi una tappa alla settimana Coppi e Bartali si è arrivato terzo nella nostra una delle nostre gare di casa che è la Coppa Sabatini a Peccioli che corridore sei? cioè quell'anno lì è stato il tuo migliore anno poi sei andata alla Gazprom probabilmente sei andato via a fine anno nel momento migliore perché poi la Gazprom l'anno dopo ha chiuso fondamentalmente quindi ti sei andato alla Stana e alla Gazprom buoni risultati alla Stana ora stai tornando su livelli tipo 2019 che corridore sei? dov'è che ti vedi forte? allora a parer mio comunque l'anno che sono andato più forte è l'anno scorso il 2021 perché c'è stato diciamo così si è notato un vero e proprio cambio dopo il Covid è vero che nel 2019 magari ho raccolto qualche risultato in più ma dati alla mano e comunque a Costanza il 2021 a parer mio è stato l'anno in cui sono riuscito a raccogliere il rapporto di più rispetto agli altri anni e se devo dire forse hai vinto solo a Limousin giusto? sì ho vinto a Limousin però ho fatto terzo a una tappa alla Tirreno comunque mi sono piazzato più volte ho fatto quarto sesto ho fatto un po' di piazzamenti ok tant'è vero che poi a livello di punteggi UCI bene o male si equivale al 2019 guardavo quello c'è proprio leggermente di più nel 2019 rispetto al 2019 sì sì ma giusto un pelo perché vincendo la Egueglia che era una corsa HC ho preso tanti punti ho preso tanti punti per quello mentre invece vincendo una tappa in una corsa punto uno non è che prendi molti punti UCI certo certo se devo dire che corridore sono bene o male ormai ho ho imparato e ho capito che devo concentrarmi su su quei percorsi che mi si addicono quindi i mossi i percorsi di fondo e poi buttarmi e rischiare nelle fughe sono velocetto tengo bene in salita quindi sicuramente non starò mai con i campioni in salita non vincerò mai le volate di gruppo e quindi devo inventarmi un po' qualcosa però anche l'astuzia fa la sua ragazzi io mi devo lasciare devo andare scusate un attimo Simo se vuoi andare a Vermiglio guarda che neve c'è per il ciclocross ma io vado a girare con la neve il ciclocross lo lascio quando c'è il terreno asciutto ciao Simo ciao a tutti buona serata ciao 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 Marcia ve lasco il nuovo col Brelli a livello sportivo forse Sonny era più più veloce in volata ora domandi glielo dico a Sonny che anche lui qua ritiro con la squadra andiamo a farci una pedalata insieme così lo faccio un po' incazzare sì no in teoria Sonny era poi da classica è diventato gli ultimi due anni perché poi lui faceva un po' fatica nelle classiche era più un uomo veloce che era forte principalmente prima degli ultimi due anni nelle volatine ristrette nelle gare di una settimana questa era un po' la dimensione di Sonny con il Brelli poi in realtà gli ultimi due anni piano piano è esploso alla soia dei 30 anni quindi magari te Simone ti manca 3 anni arrivare a compimento dei 30 anni magari visto che noi io ci diamo tutti che noi siamo talenti che esplodono tardi cioè Pogac ha 20 anni Aiuso 19 noi in Italia non ci sa nessuno piccolo forte già pronto a vincere dicono tutti che si esplode tutti dopo speriamo si esplode nel senso positivo della parola quindi 27 anni potrebbe essere il tuo anno quest'anno di questa esplosione tardiva dei talenti italiani come la vedi questo rapporto? Sicuramente sto cercando di prepararlo al meglio perché come ho detto anche con la riunione con i direttori ho detto voglio capire se sono carne o pesce insomma cosa posso dare e cosa posso raggiungere noi italiani da sempre esplodiamo diciamo maturiamo più tardi rispetto gli altri un po' anche per per modo di allenamento e un po' si vede anche per non so se per caratteristiche per genetica non so per cosa sia però la statistica sta nel fatto che che noi il massimo rendimento lo abbiamo intorno ai 30 anni è difficile che abbiamo a 20 anni l'exploit quindi dai io sono ben fiducioso di poter dare ancora il meglio di me quindi ci proverò e teniamo botta sai chi potresti ricordarmi con Visco si parla spesso si pedala insieme su Drift il lunedì anzi a proposito lunedì alle 6 e mezzo pedalata con Visco l'ultima dell'anno su Drift un po' Visconti ce l'ha anche di Visconti visto che Visconti ha vinto la Coppa Sabatini un paio di volte Simone ci è arrivato vicino a vincerla comunque è una gara abbastanza tosta la Sabatini si è corsa in una certa maniera c'hai un che di Visconti può essere? Visco è il signor corridore oltretutto ho avuto anche modo di correrci insieme giusto appunto nel 2019 ecco Visco sì comunque se devo dire a chi potrei ispirarmi Visco perché chi è in salita è veloce e comunque in quelle corse in quelle mezze classiche è uno di quei corridori che si è sempre fatto trovare pronto e a dare la tampata dai Mulla è qualcosa da chiedere a Simone sì sì allora il ricordo più bello che hai del tour cioè una cosa che ti ha impressionato veramente che ti rimarrà però ti risponde Magnus Cornice nelle funge io mi deprimo allora la cosa che proprio ti ha colpito è che ti è rimasta in pressa dai ma l'Alpe d'Uez è una roba esagerata quando sull'Alpe d'Uez ti ti chiamano per nome praticamente tutti i tifosi che sono per strada ti viene la pelle d'oca perché capisco finché chiamano Poga Scherbanair ho questi qua ma quando chiamano il tuo nome che per dire tanti ma lo sai perché ti chiamavano c'era sua mamma la tua mamma ma voi ci scherzate ma al tour 2020 mi è arrivata una foto che sulla strada c'era scritto Velasco col numero 136 mi ha detto ma Velasco io ho detto non lo faccio mica al tour il 2020 era ancora con la gas mi è arrivata questa foto di una ripresa del tour ho scritto per strada Velasco e il numero 136 come mai 136? non lo so non so se quest'anno oltretutto avevo proprio il 136 aspetta ti guardo vediamo andiamo a vedere Simone Velasco Tour de France vediamo un attimo se i numeri di post acquistanza sono corretti no no avevi il 137 quest'anno ah ecco il 136 era Mosconi comunque l'Alpe 2 è stato al momento sì no è spavoloso da pelle d'oca anche perché poi noi abbiamo dormito su in cima all'Alpe essendo che sarebbe stato impossibile scendere giù dopo la tappa la mattina che siamo andati per partire per la tappa successiva e c'era ancora la gente che si stava preparando per scendere via dall'accampamento che che avevano fatto per vedere la tappa sobri immagino tra l'altro voi non avete paura a parte solamente adrenalina vi carica a mille avere quelle ali di folla per 10 km vi immagino che comunque vai su di inerzia anche se non ce la fai più però non avete visto quello che è successo spesso e volentieri sull'Alpe Duez da Guerini nei tour di Armstrong che cadde a un chilometro o due chilometri all'arrivo a Vincenzo che si è spaccato una vertebra non avete paura quando c'è tanta gente e tanto tasso alcoletico su una salita del genere allora io ho avuto paura in Danimarca perché c'era veramente una miriade di gente lungo la strada in qualsiasi momento e poi ironia della sorte ho rischiato il peggior rischio che l'ho preso prima di arrivare sui campi Elisi per entrare dentro il Louvre che una signora si è messa in mezzo alla strada a farci un selfie mentre andavamo a 60 all'ora e l'ho agganciato la borsa con la leva e l'hai portata via mi si è piantato il manubrio nel Pinocchio sono rimasto in piedi per miracolo e poi guardo la leva e avevo tutta la pelle della borsa tutta la pelle bianca della borsa agganciata sulla leva a quel punto lì se li portavi via la borsetta era giusto ho rischiato di cadere perlomeno ho vinto il premio no andavo indietro e facevo come aveva fatto Miguel al giro che gli aveva dato a quello lì e la prendeva a caccia pensi a ritirarsi al Louvre va bene il posto però l'ultimissima tappa agli ultimi chilometri sarebbe a 40 chilometri all'arrivo è proprio lei probabilmente ti avrebbe risposto opiomi esatto senti obiettivi per il prossimo anno ti chiede Aldo allora in primis tornare alla vittoria e quindi far fare un po' di punti a chi a chi mi schiera e poi essere presente nelle fughe che serve e far bene nelle classiche ok quindi mi fa un'altra domanda aspetta me la asco a fuga me la asco a fuga anche a Fantasaki vabbè è chiaro uomo fuga ma cioè quello qual è la corsa più bella che hai fatto e perché cioè tra quelli che hai corso via qual è la corsa di un giorno la corsa di un giorno più bella e più come mai è l'Aliesi a fare il mio delle corse di un giorno la più bella di tutte è l'Aliesi perché l'Aliesi oltre che ha una storia incredibile anche proprio proprio respira il profumo del ciclismo là cioè della grande corsa sì proprio già anche alla mattina è incredibile lo diciamo l'ambiente che c'è intorno tutto intorno i tifosi e poi ti rivengono anche in mente magari tanti episodi che hai visto in passato da piccolino alla televisione e dici cavolo adesso sono qua in una delle corse più dure al mondo che esistano e e provo a fare del mio meglio la la tirrena la strade bianche potrebbe essere un tuo obiettivo cioè se ti 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 piace il ciclo ecco le strade è una di quelle corse che che mi piacerebbe provare a fare un grande risultato poi bisogna essere anche onesti che finché si si battaglia con gente come Poga Cervan Aert non bastano più solo le gambe la grande condizione e tutto ma ci vuole anche un bel po' di culo però il culo aiuta gli audaci quindi si ovviamente giusto giusto e ti volevo chiedere un'altra cosa a parte appunto chiedono visto che ti piace la Liegi se ti piace il percorso attuale o il classico con il San Nicolano che è quello di qualche anno fa io l'ho sempre fatto il percorso attuale quindi non saprei come rispondere ovviamente la riva era più spettacolare con la Cod di San Nicolà a parer mio era più caratteristico diciamo un po' come il Gramo sul Fiandre che oltretutto è pieno di italiani sulla Cod di San Nicolà perché diciamo è un quartiere italiano quando c'era De Zanna a fare la telecronaca e poi Bulbarelli successivamente l'hanno ripetuto penso 6800 volte San Nicolà la Cod dell'Italiane la Cod dell'Italiane Sì perché c'era più del Fiandre dice più del Fiandre ma io avevo chiesto tra le corsi che hai fatto non ho mica fatto il Fiandre no il Fiandre non l'ho mai fatto io quindi cioè io avevo chiesto tra le corsi che ha fatto quindi cosa ti manca ti manca il Fiandre di classica il Fiandre e poi basta poi basta poi l'ho fatta tutte ma è la Trobroleon l'ha fatta? no quella mi manca la Trobroleon e ti dico quasi quasi portami un maialino a casa non sarebbe neanche male allora beh la Trobroleon magari il prossimo anno io ti auguro di vincere appunto però la Trobroleon se non c'è la Trobroleon o se non la farai o se non la vincerai una Coppa Sabatini io la metterò lì va bene quest'anno quest'anno abbiamo fatto sesto ma piano piano ritorno lì a giocarmela no la Coppa Sabatini secondo me ti si addice perché il percorso ultimamente si ultimamente si è diventato anche più si rompe prima la corsa si fa via la corsa prima che poi ora voi siete professionisti avete una gran gamba ma cioè a parte che la salita di Peccioli dopo l'arrivo quando fate i giri pieni diciamo è il pezzo più duro è dove c'è l'arrivo fino in cima che sono c'è quei 3-400 metri al 8-9% quindi il pezzo lì è duretto la salita di Peccioli e poi quando si scende e si fa il giro c'è uno scollettino che non mi ricordo come si chiama che sono 200 metri al 5% che a noi amatori mediocri medio-bassi comunque fa selezione anche quello Zampellotto lì e mi pare che quando vinse Valgren su Colbrelli andarono via proprio su quello Zampellotto per ritornare al discorso che effettivamente quegli ultimi anni è corsa veramente più cattiva cioè la corrono veramente più aggressiva la 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 Coppa Sabatini quindi è vero Simone secondo me se riesce a entrare nella fuga che poi si va sempre a giocare si vanno a giocarsela comunque sempre in fuga perché è difficile che arrivi un gruppettino negli ultimi anni la Coppa Sabatini quindi secondo me mettila lì la butti lì nella Coppa Sabatini no no per carità si butta lì la nuova poi la Coppa Sabatini il prossimo anno è nata da incorniciare la Coppa e il maiale dentro però il maiale è un chilo d'anno perché devi essere francese per vincere il maiale giusto? che c'è questa cosa qua eh no non mi ricordo che risulta mi sembra che solo se il vincitore è francese gli danno al maiale come stasera ho detto diverse cazzate non lo so attenzione non lo so ragazzi in chat visto che voi siete più ferrate di me il maiale alla Truboleo lo danno a tutti mi sembra che il vendrame aveva vinto no? mi sembra sì infatti lui mi sembra che aveva preso il maiale addirittura della regione mi sembra infatti guarda è così no al migliore Bretton è così ve l'ho detto ve l'ho detto quindi niente maiale allora allora non ci vado a cuore sarangelo ascolta no no allora era solo per quello no no fermi tutti annunciazione annunciazione se vinci la Truboleo on ti si compra c'ho un porchettaro qui vicino ti compro un maiale e lo facciamo allo spiedo e lo facciamo allo spiedo e si mangia tutti insieme vabbè perfetto a posto premio del maiale mi raccomando fatti iscrivere anzi ora si chiama Martinelli subito domani programma di Velasco deve finire la Truboleo incentrato sulla Truboleo assolutamente come voi vai Bullar qualche altra domanda solo i brettoni si ragazzi solo i brettoni ma io sono sicuro di questa sì sono sicuro comunque vincila e poi ce lo dici allora dai ci si prova oh se la vinco poi vi so dire vi so dire se c'è la data vi tocca comprarla a voi se no vi tocca comprarla a voi non c'è problema fino alla porchetta ci si arriva poi ora se ci chiede di più una porchetta ci si arriva io farei la domanda il maiale ci si è in casa tra le altre cose quindi poi si giova facile sul maiale io non farei la domanda tornerei a Lopez dai facciamo la domanda tornando a discorso sulla Domus allora praticamente ora lo spieghi te che io non c'ho più voce attenzione vabbè abbiamo praticamente già spiegato prima gliel'hai già spiegato quindi di solito noi ai nostri ospiti chiediamo tre nomi di corridori di adesso insomma attuali ma anche magari del passato che ti stavano un po' ti stanno un po' sulle scatole antipatici o che ci hai avuto a che fare in maniera negativa oppure anche sì alla televisione che magari non ti piacevano da mandare con un biglietto di sola andata alla domo un domo super bello chiaramente vai là e non torni più perché poi ti perdi ci devo come punizione ma anche per esempio tanta gente ha detto Cipollini Armstrong cioè anche del passato oppure Buonig Guerreiro Yanirt Poachette Epstra ne abbiamo ne abbiamo no allora c'è ne uno che ci lima sempre madonna tutte le volte si vuole infilare dell'Archea soltanto non mi ricordo neanche il nome e sarà buonissimo no 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 fa anche il suo lavoro bene perché effettivamente lui è uno fidato di Quintana è sempre con Quintana lui è quello che guidava la moto a Tour de France dove si è attaccato Quintana e Polacco è lui aspetta Polacco ragazzi Anacona no Anacona no no Polacco ragazzi Polacco Ovsian dico Cuncaifeng è uno sì ecco quello Ovsian non sbaglia non sbaglia Ovsian sì quindi questo è il primo questo è un nome nuovo lui è l'immatore madonna sì è l'immatore madonna potete chiedere anche agli altri arrivano ragazzi ora arrivano ora ci stanno ci stanno altri due anche del passato ma volendo ma io non sono uno dall'animo cattivo a me non è che mi devono proprio fare qualcosa perché mi stiano sui coglioni ci sarà stato uno che non ti piaceva no da piccolo proprio ti favi per un altro e lui ti stava un po' sulle palle non me li ricordo nemmeno quelli che non mi piacevano non me li ricordo nemmeno io mi ricordo quelli che a cui mi ispiravo fammi pensare che è che ci può essere è che tanti non so neanche i nomi la signora del Louvre la signora del Louvre sicuramente lei la signora del Louvre lei ospite di onore lei diciamo vabbè lei la possiamo passare come seconda non è proprio un corridore però fa parte ha fatto parte di un contesto agonistico quindi la signora del Louvre insieme a a Osean quindi ti manca il terzo e poi ce ne sono tanti che limano e che insulterei sempre anzi non che insulterei che insulto sempre ma i nomi non li conosci ne posso dire tutto tutto il gruppo di di coloro che che limano insensatamente quando quando non ce n'è bisogno dai ma dacci degli indizi quando tu incazzi dici 136 non affanculo così oppure non sai nomi ma perché non sai nomi rimoccolo un po' dietro un po' rimoccolamento dietro glielo tiro poi ho un po' la gambina l'allargo quando la devo allargare ah non è il gomito la gamba si allarga no io perché col gomito magari ti vedono con la gamba quindi i limatori in generale la categoria limatori sì sì quindi si può far firmare una petizione per non far più limare Luca Sojan così non è più tra i miei antipatici allora per chi non lo sapesse visto che comunque andiamo un po' nel gergo tecnico anche se non è proprio è più gergale che è tecnico la parola è limare cosa intendi per limare cos'è che a te dà fastidio del limare allora sono quei corridori che praticamente loro si infilano sempre si vogliono infilare ah mi è venuto in mente un altro nome ecco vai Delì madonna no questo è un buon nome questo è un buon nome Delì addirittura ragazzino è forte è forte ma sapete qual è il problema è che non ci sono più vecchi di una volta perché se lo facevi quando c'era pozzato quando c'era il cifo quando c'era questa gente qua ti pigliavano ti infilavano in un fosso e la volta dopo non lo facevi io mi prendi la professionista se qualche vecchio mi diceva vai dietro io prendevo il sito e me l'andavo dietro adesso di solo non le può dire niente si incazzano anche ti infilano e si incazzano questa è colpa Simone ma con Delì quando hai discusso a Plue ah in Bretagna mi ha cercato di fare una figura di merda non indifferente io e lui o te no io lui arrivò arrivò bene tra le altre cose alla Bretagna si piazzò mi sembra si ma io ho detto ora mi ha infilato una volta mi ha infilato una volta la terza ho detto ta guanto vedrai che dopo non mi infili più po' potenziali parole ta guanto lui belga avrà capito sicuramente tu no soltanto che per andare a guantarlo ho mollato una mano dal manubrio c'erano le radici per la strada tra un po' mi sdraio perché avevo una mano solo ho detto vai che vado anche in terra stai a vedere che figura di merda che faccio e vedi Delì è un buon nome comunque questa roba vid the giovani che ci hanno detto praticamente tutti che c'è questa generazione di un po' strafottenti che ci sta anche attenzione perché se uno ha i numeri può anche permettersi no perché se uno fosse anche ridicolo però il rispetto ci vuole sempre il rispetto è correttesa è colpa di Evenepul secondo me è tutta colpa di Evenepul che questo è arrivato a 18 anni no no aveva già iniziato prima però ti dico la verità a parte che Evenepul non mi vede nemmeno ma non ho mai avuto modo di di litigare ho detto così Evenepul non mi vede nemmeno sembra che tu sia superiore no vabbè diciamolo nel senso io lo dicevo nell'altro nel senso opposto sì sì no vabbè dici che Evenepul comunque è più tranquillo rispetto a qualche altro gioco io non ho mai avuto niente anzi anche lo becchiamo sempre per strada qua è il primo a salutare tutti a me sembra tranquillo no dicevo è stata colpa di Evenepul in senso chiaramente simpatico sì di questa generazione qua un po' certo sicuramente poi non era facile vedere 10 anni fa 20 anni fa un giovane di 18 19 anni 20 anni andare a vincere una San Sebastian o un maiuso podio alla vuelta cioè ora veramente 20 anni fa ti dicevano sei giovane passi professionista o se passi se tiri voglio fare l'acqua vai fuori tiri lo stesso fai quello che sei un po' un po' di gavetta la devi fare non è che se no al primo calcio nel culo che prendi cos'è che fai vai a piangere da mamma e babbo è giusto no infatti tanti dicono che comunque tutta la gavetta che hai fatto giuramente anche te insomma che si faceva e si fa anche ora comunque ti dà modo di durare anche over 30 mentre dicono poi vedremo tra qualche anno cosa succederà i vari ragazzi senza far nome che hanno già iniziato a vincere anche prima dei 20 anni in teoria dovrebbero durare meno cioè non dovrebbero arrivare a 30-34 anni e continuare a vincere ad esempio Valverde è uno che probabilmente si vinceva già da subito però poi è diventato Valverde più verso i 30 oddio 25-30 non i 19-20 anni anche se era già forte attenzione quindi dicono agli esperti che insomma sarà difficile vedere tutta questa branca di giovani durare come i vari Gilbert Valverde ma anche lo stesso Vincenzo ragazzi Vincenzo ha 38 anni ha rischiato di fare ancora voglia un grande giro cioè io voglio vedere tra quanti quanti ce ne saranno che faranno ancora un grande giro a 38 anni sta aumentando la tua community vado a comprare il poster del mio nuovo idolo Simone Velasco compri lo sticker per farle scritte sull'asfalto guarda alla sua mamma qualcuno ricorda il valore di Simone Velasco non mi ricordo quanto si è quotato 6 5 7 non mi ricordo non l'avete portato di mano sì perché l'astana si è messa l'altro giorno aspetta però ha già preso più 5 stasera stasera è già aumentata è nei top no si è quotato 3 Simone si è quotato 3 si è dato una sega nulla ascoltami trobro leone coppa sabatini vai over over 10 alla grande vai vai quasi a costare quanto di lì perfetto ormai paragoni paragoni incredibili ormai tra l'altro qualcuno ti conosce dicono che già da junior le entrate le facevi sì questa aspetta la devo mettere perché qui ci sai meme che arrivano stanno facendo i meme allora questa la devo mettere perché mi hanno mandato una foto di Osean insomma quel coriore che te hai bullizzato dopo 5 secondi quando si è nominato velocissimo aspetta te la metto che è una foto alquanto inquietante non so se ti conviene le tiacce più di tanto aspetta so se la vedete credo sia lui perché mi hanno taggato ora sono in gruppo Telegram credo sia lui si presenta si lascialo passare vai non sembra l'aspetta diciamo prendiamo le distanze dalle dichiarazioni di Simone stimiamo questo grande corridore polacco che è quotato 75 peraltro più di più di più di vanali Simone tu dove sei il ritiro adesso? Sì siamo in ritiro ad Altea qui in Spagna ci siete solo voi o altre squadre lì in zona? Ma ora qui un po' la costa è frequentata da migliaia di squadre tra Calpe e Benidorm c'è tutta una spizza di team che che si perde anche il conto se tu dovessi scommettere su tre nomi non troppo ovvi il prossimo anno su chi scommetteresti a livello proprio di gioco intendo cioè chi secondo te sarà la rivelazione? Chiaramente non puoi dire Van Aert Vinggar Pogacar e Beneful ovviamente in italiano o in generale? Dove ti pare? In Polonia dove vuoi? Allora Lucas Ojan dopo no a parte gli scherzi salutiamo Lucas Ojan dopo la moto ciao ciao Simone Simone sai cosa fanno sai cosa fa quel bastardino lì sopra di te domani tagga Ojan in una storia su Instagram così saprà di che abbiamo lo abbiamo sfruttato no no qua fa una strage no no l'ho fatto con Cattaneo Impey Cattaneo Impey l'ho fatto perché era divertente il fatto che Cattaneo diceva che Impey l'avebbe massacrato alla crono di down under però qua si va sul personale qui ha detto chiaramente Simone che comunque è un corridore che come corre non gli sta simpaticissimo questo è diverso non è un merito sportivo quindi Simone non ti preoccupare non ti sbutta tranquillo anche perché qui si rischia una strage quindi insomma anche perché tanto penso che lo sappia di già insomma non è che riedete però sappi che se lo vedrai con una custodia di chitarra non ci sarà una chitarra cambia strada occhio insomma tornando ai tre nomi allora Battistella Sobrero e poi uno che non sia italiano stavo pensando a uno poi ha fatto una gran squadra McNulty l'ho visto andare veramente forte forte ciao Simone è stato bello ciao no McNulty non si può accettare Simone tutti te non lo solo te perché è il suo nemico capito io l'ho visto al tour veramente ha fatto qualche tappa che faceva veramente paura come andava ma allora che sia un ottimo Gregario che sia un ottimo Gregario un signor Gregario va benissimo come Soler cioè sono dei corridoroni però quando hai gradi di capitano fino ad oggi ha deluso clamorosamente quindi secondo me è un corridore da ridimensionare potrà fare quello che fa Maika tra qualche anno però io non lo vedo come un corridore io invece lo vedo uno che può far bene nelle classiche dell'RDN così lui ha dichiarato che però dovrebbe essere uno che vince i GT cioè lui ha dichiarato questo o sbaglio l'hanno può fare però se guardiamo ha vinto sempre quasi sempre forse di un giorno quindi come ogni anno si vince a parlare di meccanti Meglalti è un corridore città azione Magrini no ma che sia un buon corridore io sono d'accordo con Simone però non lo vedo un vincente ad oggi poi magari finché in quella squadra lì con quel corridore lì capitano è chiaro che di spazi non è che ne ha molti ecco allora nel ciclismo di oggi poi per essere vincente devi anche essere veloce perché o fai una gran differenza come c'è stata al tour che arrivavano uno per cantone praticamente o se no vince che è più veloce a parte bene giusto nel frattempo arrivano arrivano i meme non è così ragazzi in realtà Simone è stato simpaticissimo però ora arriva anche Filippo Dati arriva lì e se no anche Kelderman che quest'anno andando alla Jumbo secondo me può ritrovarsi ma che ruolo avrà che ruolo avrà secondo te lo mandano al giro o lo mandano al tour a fare il gregario altra domanda secondo te Roglic alla fine va a fare il comprimario al tour o verrà al giro a giocarsela secondo me sono un po' rotte le dinamiche prestabilite da quando al tour è andata come è andata e poi è tornato subito alla vuelta così non so non saprei che se Roglic venisse al giro no ora Pedersen ha dichiarato e te Mulat dici di no però io fossi Roglic no 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 va al tour a fare il gregario ormai è evidente la cosa dici che va al tour a aiutare a Vingegard o comunque a fare la seconda punta aiuta a Vingegard o dici te però fare il capitano no ma il discorso è questo che secondo me vedendo il giro non so se ha visto Pedersen che ha dichiarato che la Sanremo li fa cagare ha detto i tifosi italiani mi odieranno per questo ma a me la Sanremo non piace però ha detto anche che viene al giro per vincere una tappa e che vuole fare bene quindi Pedersen sicuramente porta prestigio è un campione del mondo dopo l'anno scorso che ha fatto benissimo averlo al giro è sicuramente un valore aggiunto Vlasov lo buttano al giro Caruso torna al giro speriamo faccia bene ci sarà e Venepul cioè secondo me se c'è il tassello mancano un paio di velocisti di spessore qualche personaggio chiaramente Van Der Poel e Van Aert quest'anno Van Aert mai Van Der Poel non ci ritorna ovviamente però ci fosse Roglic sarebbe un ottimo giro d'Italia secondo me ma anche senza Roglic però con Roglic sarebbe ancora c'è anche Garen Thomas sì Garen Thomas che io e Moulin ce l'abbiamo simpaticissimo non siamo tifosi no no non è cosa c'è la simpatia simpatia nel senso a livello sportivo non ci piace no possiamo dirlo ok però è uno che comunque traguardi le raggiunge però secondo noi il giro per Thomas a parte le crono che poi l'ultima crono beh tutta in salita al 25% la prima diciamo è un prologo lungo più che una bella cronometrina iniziale però poi il giro è piuttosto è duro secondo me Thomas su quelle pendenze lì insisti non c'è nessun altro cioè se mancano Pogaccia Rebega degli altri sono tutti più o meno alla pari in salita cioè non ci sono cioè sono due e anche perché quest'anno Thomas è l'unico che li ha tenuti al tour in salita erano in tre infatti il terzo era lui quindi ha 36 anni oltretutto ora bisogna guardare un altro anno se va come l'anno scorso sicuramente arriva a podio al giro d'Italia se la gioca come bene pur fino all'ultima crono però hai detto bene te 36 anni insomma da un anno all'altro cambia tutto quindi a quell'età lì senza dubbio senza dubbio però Thomas è un valore aggiunto al giro d'Italia senza un bel dubbio quindi buono buono se non cade quello è il problema io con Roglic veramente sarei al top per il partire del giro d'Italia non ci sono è negativo no è vero non ci sono stai sicuro sì perché ha detto che è troppo presto per il suo recupero fare il giro d'Italia questo l'ha detto vedremo sì però non doveva fare nemmeno la Welt l'anno scorso invece ha recuperato miracolosamente e manca un po' la vince sì anche Blasov ovviamente sì sì Blasov assolutamente ma boh Simone noi ti lasciamo riposare che domani cosa fate lungo domani riposo no ho fatto cinque ore e mezzo oggi ho allungato anche un pochino quindi domani mi vado a fare una bella pederata con Sonny se se si sveglia domattina e e se no e con Melandri che è venuto anche Melandri qua ma salutacelo Sonny certo lui è lì per così come ambassadore della Baren sì con la Baren lui sì però siamo figli di hotel e poi con Sonny siamo amici da tanti anni quindi che persona è come l'hai visto quello che gli è successo ma Sonny è un trauma no sicuramente è un trauma e poi è brutto dove smettere perché ti viene imposto però penso che comunque non è uno stupido e sa come come gestire la cosa quindi ha fatto la scelta giusta a fare il mio è ovvio che insomma se avesse potuto avrebbe fatto altro ma comunque l'ho visto tranquillo ci ho parlato giusto appunto due giorni fa come lo vedi in questo ruolo no l'ho visto tranquillo e può essere anche un valore aggiunto per una squadra per una squadra come World Tour così sicuramente esperienza ne ha ha smesso nel momento in cui era penso all'apice della carriera quindi le corse le ha vissute al 100% da vincente e può trasmetter sicuramente una una serie di informazioni molto più più ampia rispetto a chi magari non era più così competitivo quando ha smesso senti come l'hai chiamato bimbo giusto è un maschio non è nato no la bimba biletta biletta l'hai chiamata biletta ok e se fosse stato maschio Osean Lukash come si chiama Lukash no il doante mi sarebbe piaciuto chi l'ha scelto il nome sia onesto te o la moglie devo dire la verità che siamo stati abbastanza di comune accordo ci abbiamo preso un po' una una spilza di nomi e quello che ci andava bene l'abbiamo scelta però non c'entra non c'entra le otta no 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 me lo chiedono tutti ma non c'entra non c'entra chiedono tutti perché non è così ovvio sono tutti a quello te e l'ore si vede che di buono sei malato di fuga no ma vabbè era una curiosità figurati ci mancherà chiudiamo con simone chiedendo un appello devi fare un appello perché la gente metta mi piace a questo video si aspetta aspetta bello convinto carico datemi vol dire ma vai ciak ciak si gira allora invito tutti a mettere mi piace a questa bella conversazione che abbiamo avuto questa sera e spero vi sia piaciuta e se vi è piaciuta giusto appunto mettete mi piace così si fanno un'altra volta e mi alzano anche un po' il valore al fantacycling prima hai detto di primo acchito te e l'ore sasso vuoi dire di primo acchito il primo impatto primo sì perché è una roba che si dice noi in Toscana di primo acchito così mi è venuto un flash no no ma anche da noi a Biella si usa abbastanza di primo acchito sì sì l'ho già sentito più volte ci crolla un mondo adesso sì no è vero e infamate a Dele no a Dele non hai deciso Simone buonanotte salutaci Sonni salutaci Melandri fate una bella pedalata e mi raccomando Trobro Leon Maialino Porchetta e Coppa Sabatini va bene allora ciao bocca all'estero bocca all'estero ciao ciao attenzione abbiamo scoperto un personagione numero uno Filippo se ci sei è il tuo momento ragazzi eh sì dopo un anno di attesa un anno di attesa ci siamo chiesti ci siamo chiesti di tutto che fine ha fatto dove era finito sì assolutamente se addirittura se addirittura gli era successo anche qualcosa di grave sì questi sono i meme che ci hanno che ci hanno fatto il mistero dell'umanità che è stato a creare il Big Bang che cosa accade lì nel triangolo delle Merbuda che cosa c'è dentro l'area 51 e poi è scomparso che fine ha fatto Filippo Dati questa è motivazione ed è questa vittoria è per te oppure non sono grasso questo è bellissimo non sono grasso è fuori di testa un'ora e dieci non abbiamo ancora parlato del doppio mento di Banard e la Inos che appunto cambia cambia modello d'occhiali e Grant Thomas probabilmente non vincerà nulla il prossimo anno solo per questa roba qua attenzione è arrivato ragazzi è il momento è il momento assoluto dopo un anno e mezzo che è scomparso non sapevamo noi veramente abbiamo pensato che fosse morto lo possiamo dire temevamo certo noi abbiamo smesso di parlare di Filippo Dati perché detto qui è successo qualcosa non visualizzava messaggi ora ti tiro dentro è già lì sotto che sta guardando cioè dopo un anno e mezzo che non risponde ai messaggi a un certo punto mi risponde a un messaggio e mi dice scusami che non avevo le notificative e non avevo visto messaggi dopo un anno comunque meglio tardi che mai grande Filippo grandissimo ciao ragazzi ciao benvenuto di nuovo tanto mi sentite sì se tornavi a Pasqua era perfetto periodo resurrezione era veramente il top però va bene uguale anche a Natale no allora prima ho fatto gesti che non si potevano ripetere in live ovviamente ti sei toccato come? ti sei toccato diciamo la verità non si dice tutto quello che è possibile cosa è successo in quest'anno Filippo? che cosa cosa è come intanto una cosa soprattutto a Fede ma se uno ha un profilo Instagram dove non ha mai caricato una foto ti viene da tutte le parti tu ho scritto su Facebook Instagram LinkedIn tu ho scritto da tutte le parti perché ci stavamo preoccupando giusto guarda mi hai messo in mente che ho anche un profilo LinkedIn che non lo so allora non sono tecnologico questo l'abbiamo capito ogni volta provo a buttarmi sulle cose ma poi vanno il dimenticatoio innanzitutto soprattutto le password e cose del genere quindi non seguo non sono social da nessuna parte tanta buona volontà ma ha pochi risultati da quel punto di vista ok quindi ragazzi è ritornato ce l'hai il pianoforte lì ci puoi suonare una canzone o no è fattibile questa sera non si può fare perché sono con un computer che salta l'audio ah ok però lo rifaremo lo rifaremo che la cosa ganso è che te ci avevi lasciato dicendo vi comporrò una sigla è un anno e mezzo per quello che non si è più fatto io ma basta fare la casa in un anno e facciamo questa cosa oh Filippo vai al pianoforte a proposito com'è andato il concerto a Luca mercoledì 8 l'8 insomma c'era il concerto giovedì è andato molto bene è andato molto bene c'era anche gente nonostante il tempo quindi è andato bene solo che la sera prima in un concerto preparato organizzato all'ultimo così era un po' complicato ma quindi a parte allora poi perché si è sparito cioè cosa è successo perché cosa è successo sono riuscito poco a seguirvi per impegni che per fortuna c'erano nulla di particolare l'azione del pacca all'arrivo di Filippo Date è giusto è giusto queste sono per te te le vengo a portare di persona comunque niente intanto lo leggo anche io eroe nazionale ricorderemo il 2021 per il covid lockdown è Filippo Date che a mezzanotte suonava il piano in live su youtube con Manuele Boaro in live esatto la sigla deve intitolarsi capito giustamente ma le live le seguivi ti chiede di live allora intanto c'è da dire che voi le vostre live sono un attimino lievitate perché 45 minuti sì 45 quando potete finire sto cazzo andava bene guarda no 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 scusa perché Filippo Date 2 Dio 0 cosa è successo questa non la so Alessandro voglio sapere perché Filippo Date 2 Dio 0 perché vince 2 a 0 contro Dio no voglio saperlo saperlo Filippo Date tanto subito la porta finisca e frenare delle scarpe prima di comporre la sigla perché è apparso due volte ah ok ok no tre tre volte te sei venuto due volte le prime volte due volte quindi è la terza 3 a 0 contro Dio 45 minuti moltiplicato per Venturini te ora Filippo non la sai questa cosa di Venturini è troppo complesso è un per 4 fondamentalmente ok Mullah l'hai visto che è tornato si si ciao 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 carissimo ascolta Filippo ma il ciclismo l'ha seguito in questo in questo periodo di quando si è stato un purgatorio ho visto che non è successo praticamente nulla perché non ci sono nuovi corridori che vincono mai gamma va piano quindi attenzione dichiarazioni importanti su se giocherai Fanta Sacking il prossimo anni su chi punterai allora sono ancora in dubbio su chi puntare perché a parte i soliti che servono perché che costeranno di più quest'anno lo anticipo come che costeranno un po' di più quest'anno ai soliti che servono sempre infatti il problema è quello ma dire il vero io gioco soddisfarmi perché mi piace puntare su quelli sconosciuti che non compra nessuno e che magari poi possono dare delle soddisfazioni anche perché poi puntare sempre sui soliti big e spenderci tanto diventa un rischio perché poi tipo il gear mai di turno che l'anno scorso costava il giusto e ha fatto una stagione buona anzi ottimo che ha vinto la gara è vero che abbiamo avuto i soliti cannibali che hanno fatto una stagione veramente mostruosa perché ci sono lo stesso è bene pur no si ha vinto tantissimo vogliono sapere il nome della tua squadra come si chiamerà la tua squadra per quest'anno mi devo inventare qualcosa di nuovo ma ti vogliono seguire capite quindi ma questo dato live che abbiamo creato questo lo lasciamo per le prossime live perché crea un po' di attesa un po' di paura si può svelare tutto lo diremo il 31 dicembre in una live alle 23 59 sì un minuto via esatto sarà il nostro momento di fine anno assolutamente saremo in live allora io devo scaricare le squadre le grafiche datemi un minuto e rientro subito scarico le grafiche e rientro così presentiamo le squadre ok io non ho seguito tutta la parte in cui parlava Philip sulle squadre su chi puntava hai fatto dei nomi forti no l'ho fatto a dire il vero perché sono ancora abbastanza in fase di studio nel senso piano piano mi sto guardando anche la quotazione eccetera perché innanzitutto c'è da dire una cosa con i pochi cannibali che vincono tutto è più difficile andare a pescare corridori magari da poco che riescono a fare risultati magari è più facile puntare sulle fughe per fare punti in questo senso perché se no è abbastanza difficile poi bisognerà vedere perché bisogna anche studiare il calendario degli appuntamenti ha detto prima che quest'anno non è successo nulla dichiarazione importante poche emozioni almeno una gara prima ti chiedevano la gara che ti è piaciuta di più quest'anno l'evento top dell'anno per me è sicuramente il record dell'ora di gara non è una gara ma non posso assolutamente mettere niente davanti a quello senti lo aspettavamo perché ha avuto un'annata che è andata un po' così e così alcuni risultati anche al di sotto delle sue aspettative quindi c'erano perplessità e invece ha tirato fuori la zampata del campione però non era così atteso cioè c'erano tante perplessità senti visto che il nostro è anche un programma culturale noi facciamo della cultura infatti ci chiamiamo super quark 2 esatto noi siamo il nuovo Piero Angela noi tre insieme al Berta in quattro a quale pianista ti ispiri? è una domanda importante che può sconvolgere un po' i piani della serata dunque è difficile dire a quale pianista mi ispiro nel senso che poi ce ne sono tanti non ce n'è uno in particolare di riferimento io ho avuto anche la fortuna di studiare con maestri importanti quindi loro ci sono tutti diciamo che hai messo in difficoltà con questa domanda è difficile scegliere uno perché non ho un riferimento preciso nel senso che allora io non amo quello che è diventata l'esecuzione pianistica moderna ultra perfetta a tutti i costi se dovessi scegliere sceglierei indietro e direi che a me piace tantissimo come il coltò suona Chopin Chopin infatti guarda te lo dicevo no ma non non con Chopin ma Alfred Coltò te lo suona ah ok 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 per la musica per gli autori compositori musica russa Rachmaninov Stjabin per la Tchaikovsky Shostakovich tutta questa roba qui ma i classici su Mozart Beethoven no ti stanno un po' sulle palle no 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 assolutamente ma io ti faccio una domanda visto che te sono il piano a dei livelli alti no ovviamente ma per scrivere quella roba lì io ogni tanto l'ascolto questa musica di Chopin Mozart Beethoven le sinfonie anche il famoso film Arancia Meccanica Ludovico Vann tutto la colonna sonora del film che da lì poi mi sono un po' appassionato a quella musica quanti quanto più si fumavano quella lì per scrivere quella roba lì è una follia totale quella roba cioè bellissima ma è una follia indietro e se vai a vedere quanto hanno scritto perché poi ora magari nel contemporaneo trovi Manseverand infatti infatti è per quello no è quello che sconvolge di dei compositori storici è anche la quantità di produzione sempre con una qualità altissima è vero anche che il musicista aveva un ruolo diverso nella società e per come era visto però diciamo che è il rapporto qualità quantità che lascia abbastanza senza parole qualcuno dice oggi 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 si fuma oppi per fare i cambi squadre le formazioni e il fantasma non mi accostate a questi gruppetti di musica rap cosa facevano fan no facevano penso che non esista più club dog club dog cos'è era gay pequeno jake la furia e quell'arte di sgraziata quella roba lì penso di non sapere manco mezza canzone forse quella il gioco a pass non lo so quella canzone io ascolto una dichiarazione importante perché quella musica lì è fatta perché si è ricordata in fretta quindi se non te ne ricordi neanche a mezza e hai distrutto a me il rap non mi garba rap trap a me fa cagare tutta cioè per me quella lì è una musica orecchiabile al massimo se è cantata in inglese dall'americano io se devo ascoltare a Eminem te la scorto diversi pezzi ma una roba italiana io spengo subito cioè poi a me non piace poi a chi piace la musica lì tutto rispetto a me non piace poi mi offendono perché mi garba Blink 182 sicuramente prenderò l'offese però per me i Blink sono nettamente superiori a quella musica lì e ma attenzione la musica inizia dal mio punto di vista ma Filippo è più bravo di me a parlarne da quella roba lì che dicevamo prima cioè in quegli anni lì dove c'erano dei fenomeni praticamente fumati nella testa ma che scrivevano delle robe assurde cioè ho scaricato un'applicazione dove faceva vedere tutte le note un po' di tempo fa che dovevi fare per suonare i vari Mozart Beethoven una follia totale ma come cazzo fai scrivere una roba del genere cioè gli assoli di Slash dei Guns and Roses sono niente in confronto a quella roba lì credo che si debba essere un po' folli no? per fare quel tipo di opere beh poi alla fine la difficoltà non è tanto nel suonare un miliardo di note ma ti mette più in crisi un Mozart che di note ne ha molte meno ma sono tutte fondamentali e non ti viene mai perfetto quindi io sono anche Boomer ma voi meritate tutte le stati shakerando di ontimo shakerando tutte le stati meritate quella canzone ma voi avete mai visto un concerto live di quello che canta shakerando non canta porca non canta ora io mi pazzia ha fatto una zoncina bellina rimane in test ma non canti cazzo di zoncina fa non canti vai al giro dei concerti e fa sonare l'impianto non canta cioè apri pazienza ma è un problema di qualità perché e fa anche il fenomeno ecco appunto quindi ragazzi se questa è la musica siamo nella merda più totale allora preferisco ascoltare musica di 300 anni fa ecco assolutamente concordo dalla quale copiano tanto e chiamatemi Boomer va bene lo accetto perché poi comunque ci sono i big live sono sicuramente meglio di cosa come cazzo chiamano come si chiama il leccato a shakerando io per te che suoni quella musica lì come si chiama il leccato a shakerando come si chiama ragazzi il leccato a shakerando porca rov 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 bravo rov rov ho guardato su google mica mica so che cazzo ecco sicuramente ecco lui non suona nemmeno quindi c'è nemmeno il leccato grazie rov rov si me lo segno guarda me lo segno mo me lo segno non lo nominiamo ci bandano se si nomina luke rov luke rov è più interessante il nome più interessante qui c'è un meme da fare luke rov che scanta shakerando luke rov è luke rov noi conosciamo solo solo quella solo quella di rov allora philip leggi con noi presentiamo le squadre vai allora abbiamo tutte squadre diciamo medio forti stasera siamo su ormai siamo su dei livelli alti l'ultima domanda e poi si parte philip dati nome e cognome giustamente no philip philip dati che musica accompagnare di squadre imbarazzanti come astana movistare eccetera una musica intanto prima di dire imbarazzanti vediamo i risultati perché poi si fa pressa a dire che una squadra mi permetto di dire che può aver ragione mi permetto di dire che l'astana con il licenziamento di lopez non è una squadra però è un'opinione personale però un uomo in più che è simone velasco attenzione sì però comunque non è più considerabile come squadra di ciclismo secondo me è un'opinione personale ma potrebbe lasciare più spazio a altri quindi forse meglio anche a chi altri corritori tipo uno come simone per esempio potrebbe avere qualche spazio in più eh mai dire mai lui è diplomatico non peggio che lopez avrebbe contrasto cioè sarebbe andato in contrasto io parlo nell'ambito della programmazione stagionale nella copertura degli obiettivi era lunedì mattina stavo andando al lavoro ascoltato e l'ascoltatore fa l'impensabile come brano chiede shakerando volevo schiantarmi con un pilone per l'erario è devastante shakerando di shaker prenderemo la deruncia da rove stasera sicuro da lucro veramente oi oi va buo insomma con c'è Sirizza o Sirizza e io andrei a presentare la squadra ti chiedevano un online la stessa seguendo la Zwift Academy non so nemmeno cosa sia dove è uscito c'è i live no c'è i video ora stanno girando no no c'è un italiano no no perché dovremmo anche chiamarlo in live questo ragazzo no non l'ho non l'ho seguito ma c'è ora in questi giorni no sì è ancora finito no non lo sto seguendo perché l'ho seguito la prima volta per Vine e poi l'anno scorso c'è stata praticamente una buffonata perché quello che è uscito da lì ha fatto pena mi sa che insomma non so quanto funzionerà queste cose vedremo forse è stato un caso eh Genevine forse è stato un caso anche perché aveva una certa età Mozart suonava rollando no sì comunque i pingüini tanti gioccherari che hanno fatto erano alla finale di X-Factor io non l'ho mai a parte che sono bravi no però hanno fatto un'intervista e sono dimostrati dei ragazzi normalissimi tranquillissimi ma zero montati e so che c'è stata stagliatriba con Luke Crow e credo che abbiano pienamente ragione i pingüini tattici nucleari che come nome già di gruppo hanno già vinto 10 a 0 sì ma poi non sono scappati di casa nel senso sono ragazzi che sono bravi sono preparati insomma io dico sempre bisogna fare un po' di differenza tra chi ha del mestiere dietro e chi diciamo venne fumo per rimanere a proposito esatto per restare in tempo sì sì ora si denuncia agile stasera allora allora partiamo da vediamo chi la indovina da una squadra dove c'è un corridore che tutti gli anni ce n'ha uno è arrivato anche l'Opez nel fiat tempo ciao ciao Michele ciao Michele in bocca al lupo allora tutti gli anni ce n'ha una vediamo un po' chi indovina ce ne sono tanti Emma provo no io ne ho due mi serve il nome della squadra ragazzi io ne ho due in testa una l'ho già vista nella chat vediamo un po' se se indovinano dicono EF BOR Bike Exchange Bike Exchange hanno indovinato giustamente Bike Exchange eccole qui quotazioni Bike Exchange prima Matteo Maccioc allora io ve le leggerei volentieri ma non leggo il primo nome quindi bisogna che ha Balmer allora Balmer 1 Colleoni 1 Crado 4 De Marche 3 Dunbar 3 Darbridge 2 Angel Heart Angel Heart Angle Heart 1 Grrmai Grrmai che è tipo è il Grrmai però senza I Grrmai 1 poi Gronewegen l'acquistone 22 Hamilton 6 Harper 2 Edmund 1 Jansen 1 Mass che invece qui c'è un A in più Matthews 35 il corridore diciamo simbolo della squadra Magic 4 O'Brain 1 Pegna 1 Porter 1 Osterberger 2 Quick dicono che sia veloce questo 1 chi ha capito il gioco di parole eh vabbè qui siamo ad alti livelli Enders 1 Scotson 1 Sobrero 9 Stewart 1 Stibar 5 qui ci saranno polemiche Yates 24 e Zana 2 bene andiamo avanti il prossimo squadra Gronewegen scontato un Gronewegen scontato direi comunque cioè a un prezzo accessibile dai se no veramente scontato eh sì Gronewegen abbastanza scontato che dicono vediamo cosa dicono vediamo un po' cosa dicono in chat Dunbar 3 occhio e ti dici come lui perché eh io infatti volevo quotarlo avrà qualche chance in più lui nelle corse da una settimana no no Zana non lo volevo prendere io guarda non è male no e secondo me Dunbar qui potrebbe essere potrebbe essere una bella presa perché comunque questo uno che dichiara che vuoi fare che si fia a giro un motivo ci sarà non è che il primo scappato di asia diceva io voglio fare che si fia a giro ci sarà un motivo ma chi insisti cioè lui ha questa teoria che non ha nessun fondamento né logico né scientifico cioè il fatto è che se una squadra non ha nessun altro allora l'unico che è un presunto capitano deve valere qualcosa cioè una squadra che non ha nessuno non farà niente quest'anno cioè non ho capito non è che eh cioè c'è un posto una quota quota bike exchange nella classe dei top 10 cioè se nessuno farà niente non farà niente nessuno giustificati no perché lui ti ha avuto questa teoria per tutte le quotazioni che non hanno nessun altro ma cosa c'entra non hanno nessun altro peggio per loro cioè ma secondo te Bertha ciao Bertha Damba non è ascolto Damba è ascolto eh per quello che ha fatto fino adesso no eh infatti ma diglielo un po' Bertha cioè non è che se non hanno nessun altro allora lui cioè se fanno schifo non è un problema io ho capito dove vuoi arrivare come capitano al giro potrebbe anche anche Sosa quest'anno era capitano al giro sì ma infatti Sosa ce l'aveva un po' quanta percentualità poi si è fatto la figura di merda tutti a prenderlo però Damba così basso rischiamo rischieranno tanti di prenderlo come no io questo sto dicendo capito è una pedina che poi se farà dei punti le faranno tanti se farà cagare faranno cagare in tanti io penso che Damba lo prenderanno tanti poi magari non lo prendo ma perché si è creato questo hype che secondo me è abbastanza ingiustificato l'hype si crea Bertha perché il discorso è che far lui è non hanno nessun altro il fatto che non abbiano nessun altro è un problema è un problema loro non è un problema loro ma poi se durante la corsa salta fuori subito qualcuno che va più forte cambiano vincere la coppia e Bart vuol dire avere delle qualità ma il problema ragazzi se questo vince o si piazza al giro del Trentino o al Tour of the Alps è quello il problema se si piazza al Tour of the Alps è un problema ma lui si potrà piazzare ma ci sono tutte corsa che non portano punti nel World Tour quindi andrà bene andrà bene nelle corse da una settimana D'Ambara a mio avviso ma quali World Tour o no qualcosa nel World Tour prima del giro scorta D'Ambara D'Ambara se no ora davvero si apre una guida Cataluña per dire che ha messo 5 a Stiba ci deve delle scuse qui come è andata come è andata la cosa di Stiba non ricordo che costava 13 costava 13 e si è calato tanto ma ci sono un paio di nomi nella mia lista nera D'Ambara perfetto per il Polone forse è più appetibile Stibar che D'Ambara D'Ambara Scalatore puro non ti garba Scalatore puro è un'offesa agli scalatori puri D'Ambara Scalatore puro D'Ambara non è niente non è niente sì ma D'Ambara sono anni che non fa punti vi siete inventati tutti questo D'Ambara adesso io voglio solo dire che ma non è detto che no no quello è vero però intanto D'Ambara ha perso da Tiberi nell'unica salita che c'era al giro di Ungheria nonostante la vittoria quindi io con questo chiudo l'argomento D'Ambara D'Ambara Scalatore Punto D'Ambara Scalatore D'Ambara capitano prendete zona 2 giro d'Ungheria ha perso da Tiberi in una salita orrenda ma scusami Harper a 2 perché passo e chiudo cosa sai di Harper Samuele che noi non sappiamo ma sono tutte gente che hanno preso altre squadre mi pare che Harper ha fatto la guaitura inizio anno l'anno scorso o 2 anni fa se non sbaglio una roba del genere qualche punticino lo fanno però sono corridori che chiaramente hanno un minimo di storia minimo probabilmente esatto il fatto che arrivano da squadre essere gregari o poi sei buono li fai il capitano probabilmente per qualcuno è affascinante il fatto che arrivano da squadre forti io punto sul commento dello Svizio per pietà andiamo avanti perché è quel pietà in più ok allora per pietà leviamo la Bike Exchange prima squadra presentata stasera allora adesso ma Luca Samilton cosa vera aspetta che mi aveva un dubbio poi è lui Samilton giusto? stiamo parlando sei 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 adesso lo dico lui si che è una truffa clamorosa ora fatti te Bertha quindi beh lo so adesso ci vado infatti lui si che è una truffa clamorosa va bene vince il giro d'Italia sì sì probabile Bertha quando sei a posto confermato hai confermato sei ottimo allora andiamo in una squadra dove corre un corrido dove corrono molti corridori che stanno simpatici a fantasy e loro simpatizzano fantasy ma ce n'è uno in particolare che ha fatto un saluto caloroso a Mullah in una giornata in cui è nato poi l'odio tra Aramburo e Mullah non allora vi voglio specificare stasera allora io non odio Aramburo Aramburo mi è completamente indifferente non so se avete capito questo ma talmente ti senti che lui non ti ha voluto salutare sì no ma però cioè non è che ha fatto ha fatto guarda Mullah ha fatto un odio ciao Mullah ciao Mullah ha fatto sì da te sì ma però questa cosa non mi ha mai toccato voglio chiarire questa cosa ma non me ne frega niente di Aramburo prima cioè non me ne fregava niente prima e non me ne frega niente dopo oh Gesù mio che squadra anche qui oh Gesù mio che squadra ma vabbè comunque la peggio squadra ora è l'Astana non se ne esce Allegart 2 vai Mullah leggile te Allegart 2 poi Bidart 1 quando siamo sulla Francia vedi che delega Carvaglio 1 Champion 1 Cimolai Padre Cimolai Padre 3 Consonni 12 Consonni 12 Cocard 11 Fernandez 1 Fine 1 Gesche 18 Furto Errada Jesus quella è una truffa Errada Jesus 5 Errada José 1 Isagir Reion 17 La Fè 3 Lastra 1 Mario 1 Guillem Martin 21 Nop 1 Perez Anthony 1 Pericione 1 Renato 1 Rochard 1 dove 2 Anthony Perez 2 hai detto ah 2 2 no? ho sbagliato? si avevi detto 1 niente Pericione 1 Renato 1 Rochard 1 Benjamin Thomas 7 Tumir 1 Wallis 1 Wallis 4 Wood 1 Zingol 3 qui c'è hanno creato un scalpore le quotazioni di Gesche le quotazioni di Gesche sono ovviamente e evidentemente una truffa però sono giustificate dai punti che ha fatto ha fatto tantissimi punti quest'anno ragazzi sì con il fatto della maglia del Tour de France ha accattato veramente e poi terzo la Romandia forse Svizzera terzo la Romandia la Romandia ma anche il Tour de France ha fatto tanti punti Fisson Fuga cioè ragazzi ha fatto un sacco di punti quindi è ovviamente è sopravvalutato ora e è una truffa però d'altronde mille punti mille punti per un corridore medio deve costare tra i 15 e i 20 ragazzi questa è la legge cioè perché se lui fa un'antrannata del genere il valore giusto è 18 17 18 se lui fa quello che ha fatto l'anno scorso Izaghiere quanti punti ha fatto? Ioni Izaghiere Izaghiere però ha a parte ha fatto solo ai barchi ha fatto 6-7 quanti punti 900 950 quindi vabbè ci sta no ma ci sta sì ma tra i due chiaramente io preferirei Izaghiere che il Gash che è in teoria Filippo c'è qualcuno che compreresti fra qui in questa squadra sinceramente no nessuno forse con Zing con Zonni 12 sì ma sinceramente non penso che andrò a pescare qua perché questo è uno squadrone sono d'accordo in effetti anche io ho una teoria per quest'anno che porterò avanti cioè allora allora fermo apriamo apriamo una parentesi apriamo una parentesi su questa cosa che è Sputting che chiaramente ha entrato il punto fondamentale sì vabbè cimolai a tre porca puttana non non di questo è poco è poco è poco è poco è comunque un velocista se si va al giro con cimolai con Zonni parliamo delle parole avete cancellato dal gioco in generale parliamo di questa cosa eh ma che non sono in chiaro è nella nostra lista nera quindi noi per ora non verrà esclusa anche dal Fantastica femminile avete capito che Sputting ha centrato un problema fondamentale che è stato un oggetto di discussione no quando si è fatto sono fatte le quotazioni però Moulin hai sentito che è poco in generale comunque alcuni venivano cancellati dal gioco eh vabbè ma ci sta c'è su 800 corridori c'è secondo le quotazioni date a alcuni corridori che sono incomprabili e quindi vengono semplicemente non non importano le quotazioni viene fatta una X praticamente sopra il nome e non esistono più cioè loro non partecipano più a Fantastica però ti danno anche il libro se non ci sono anche il libro se non compro che poi dovrà venire in live stasera però mi sa che ha fatto tardi a cena anche Cimulare a qualità di ball come velocità che non fa una volta ma che a poi ragazzi ora se poi entra a Cimulare stasera in live ora vi vedete che io dite voglio vedere no no io non stavo parlando di Cimulare io sto parlando del punto di cancellato dal gioco ok però Cimulare a 3 secondo me non è cancellato dal gioco perché l'anno scorso al giro avrebbe comunque se fosse andato in maniera diversa avrebbe comunque fatto metà volate rispetto all'alto velocista con Sonic chiede però ha fatto 55 punti al giro sì perché poi per tante dinamiche non c'è mai stato verso di fare le volate che dovevano toccare a Cimulare però l'anno scorso era metà per uno se quest'anno rifanno metà per uno magari Cimulare che costa un quarto quindi costa 4 venturi in i rispetto a Consonni Cimulare potrebbe essere magari fa tanti punti quanti Consonni tutto lì e comunque mancano come al solito mancano due corridori alla Cofidis Ghiè e Marten che dicono che dici Marten ci sta dai il prezzo ci sta secondo me dai ci crede ancora qualcuno o no 21 Ghiè e Marten 21 costa pochi allora io passerei alla prossima squadra ragazzi nella prossima squadra Scutnik ha capito tutto ha capito tutto ma non vale per lui vale per tanti cioè ci sono tanti che sono stati cancellati volutamente e vabbè forse per rendere più semplice il gioco magari sì no cioè ci sono alcuni che veramente sono stati cancellati quindi chi li prenderà casca nelle truffe più assurde allora ragazzi ora c'è una squadra importante non tanto per la squadra in sé per sé che non è sicuramente una delle più forti però c'è un corridore che l'anno scorso ha indubbiamente fatto strabene rispetto rispetto al suo range no è un corridore che ci avete chiesto in tanti la sua quotazione avendo paura che fosse stracuotato e la risposta è sì sarà stracuotato di che squadra stiamo parlando chissà chissà ma se l'abbiamo rappresentata Mattes ma che cazzo sveglia Mattes sveglia eh Bonifazio che quotazione gli date eh ora poi si vince è già data Bonifazio credo uno c'era uno o due una roba del genere ma come uno meno di Venturini e meno di Cimolai non lo so se l'ha data non me la ricordo comunque è la track bravi allora stiamo per scoprire la quotazione attenzione di Mattes Pedersen vai lascia l'onore al nostro ospite vai leggina te il primo è per Asturia 2 vai se la vuoi leggere Filippo no 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 vi lascio a voi sì vai 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 lanciati lanciati non ti preoccupare allora Baroncini a 1 Bernardo a 2 Brustenga sì lì c'è arrivato sono le altre che mi preoccupano Cristenga 1 Cataldo 1 Ciccone 18 Ellison le 2 Dallopen 1 ecco Grabe Xabier Geber Xabier Geber Xabier era 1 Hellemose 1 Holgan 1 Hule comunque grazie lascialo fare lascialo fare lascialo fare Liepins 2 JP Lopez 14 J.P. Mollema 17 JP sì è stato corretto tanto ormai è un buffone si chiama no mi sono sbilanciato dai mi sono sbilanciato mi sono sbilanciato Mollema 17 ritiro quello che ho detto ritiro quello che ho detto mi ha scritto Guercilena no no ritiro quello che ho detto è un grande è un grande Nis crediamo a fare il circuito di Madrid siamo a tutti i grandi c'era Iuso Fogaccia e JP Lopez Nis Pedersen 40 e il nuovo questo Mollema l'avete detto? aspetta Mollema 17 Mosca 1 Nis 1 Pedersen 40 e qui ora discutiamo Simons 13 Skeilmose Jensen 9 Skewins 8 Stuiven 20 Tesfashon 1 Teuns 8 Tiberi 1 Toluek 1 e Bacek 2 allora questa è la track formazione io vorrei dire che a parte pedra di merda chiudo no è la verità no è vero ragazzi per me sì per me dal mio punto di vista allora intanto si sta parlando di fantasizing e qui quotazioni e non di ciclismo reale qui si sta parlando di quotazioni fantasizing o no sì quindi io posso parlare liberamente contestualizza infatti qui cosa si sta cosa si sta facendo quotazioni fantasizing quindi il gioco fantasizing 2 1 questi valgono così nella realtà no è gioco no va bene ma io ti sto dicendo qui si sta parlando qui si sta parlando di quotazioni per il gioco fantasizing per me a parte Peders dal punto di vista del gioco fantasizing questa è una squadra da non considerare ok questa è già un po' più diplomata ma guarda che lo posso dire queste possono vincere io ti dico che questa per me non è una squadra dal punto di vista del gioco c'è l'orete sta già male ha detto porca potete fare di me do il gioco ma io posso dire ma scusa ma io gioco a un giochino ascoltate se no mi incazzo io gioco a un giochino no a un gioco di ciclismo posso o no non sono libero in questo mondo si però è una parola associata a una squadra che magari insomma stride un po' ma non ho detto che questa è una squadra di me io dico che dal punto di vista di fantasciki per me messaggio è arrivato un messaggio a qualcuno ma che me ne frega io posso dirlo questo è fantasciki è un gioco io ci gioco e per me questa è una squadra di me per me cioè io non ci non compro nessuno non compro nessuno di questi a parte forse per nemmeno perché è una truffa a 40 allora detto questo Vacek ha due rispetto a Tiberia perché Vacek ha vinto una tappa nel World Tour cosa che Tiberia ancora non ha fatto molto semplice e quindi questo è quanto per questo si sono assentati tutti allora detto questo Mullah senza lingua sui peli Filippo ci sei sempre o ti sei frizzato? no 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 vi lasciamo parlare prima di Mullah perché avevo preso una strada l'hai visto carico l'hai visto importante sì sì non volevo assolutamente censurarlo Natalino io sì lo so allora ma chi è Lore chi era nel messaggio? Lore chi era nel messaggio? ma no niente un po' di gente no dai partiamo una squadra allora Mullah vogliamo il tuo parere su Teuns e Schuiz eliminati ma l'ha già detto ma l'ha già detto l'ha già detto Mullah perché deve giustificare un passaggio da 13 a 1 direttamente senza sentir proprio nessuna chi? non lo si vede non lo stavo facendo chi? come è che l'hai chiamato mister delusione dell'anno una cosa del genere ma chi è? erano i fan Olgard 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 sì Olgard 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 non merita niente ho veramente insistito perché andasse a 1 perché veramente è stato il fantasma dell'anno non merita non merita secondo me non meritava nemmeno di essere quotata doveva essere regalata a questi quadri come trettunesimo uomo però forse perché lui di sopra me l'ha veramente pompato per mesi e mesi e poi ma cazzo l'anno scorso invece una signora è nata per correre nella 1X quest'anno qualcosa di più si aspettavamo non ha fatto il peggio sapete chi è qui il peggio il peggio di tutti per il rapporto qualità ma io scusate allora se non posso di niente sto zitto però se posso parlare del gioco parlo come mi pare cioè dico cosa mi pare non è che parlo della persona cioè sono offese personali io ti sto parlando di chi a parte a parte Juan Pedro Lopez stavo proprio per dir lui stavo proprio per dir lui allora vabbè non hai richiesto stavo proprio per dir lui no ti stavo proprio per dir che secondo me proprio come il rapporto qualità prezzo è il peggiore di tutto il gioco cosa hai detto prima su Lopez è un milione niente ho detto cioè 14 lui per me come qualità prezzo è il peggiore di tutto di tutto quanta sai ma anche 17 di molle ma secondo me no 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 non mi puoi toccare molle male stai zitto Berta che non hai mai iniziato ora ti va bene eh sì adesso che l'ho comprato è aspetta perché è vero fai l'annuncio vai Berta no aspetta 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 perché il Berta praticamente ha iniziato la sua lega folle di malattia totale che fanno lastre ventito su molle male e ha comprato le ore 17 ecco ricordiamo che a questi livelli qui l'anno scorso c'era Stainhauser per ricordarsi a che livelli c'era comunque chi è preso no dai leggi Liberta non si vede leggi a parte che c'ha l'iPhone nuovo vedi chi c'ha l'unica guadagna da Fantasaki vedete chi è non si legge leggi nomi e questo ti devi vergognare perché è stato un anno di che non aveva iniziato che era un ridicolo allora speri poi vedi si è venduto subito alla prima occasione molle ma pagato quanto scusami quanto è pagato vergognati no vergognati no perché hai fatto bene a col parametro non si vede vedici io lo vedo anche non ti vergogni dopo tutta la campagna di diffamazione che hai fatto nei suoi confronti eh un po' sì un po' mi sono vergognato però allora va bene però adesso ci credo perché vedete se ci credi dopo eh addio vedete se in 40 è troppo vedete se in 40 è troppo dice giustamente Stefano comunque ho delle altre chicche perché molle ma per ora è il più forte che ho preso eh pensa agli altri eh allora se come l'anno scorso l'anno scorso come sei arrivato comunque la squadra di merda secondo secondo immagino gli altri dicevi con Ingle i vincitori del Giro d'Italia chi hai come capitano chi hai come capitano chi hai preso Shackman vabbè vabbè un giovane promettente cioè era tanto che le volevo dire questa cosa perché questa track è un mesetto che la guardavo no no ti dico che c'avevo più aspettative c'era quel cileno live due sette tre sette potevi dirglielo io non devo dire nulla non è che non sono nessuno non devo dire niente era da un mese che la vedevo c'avevo delle aspettative su questa squadra lì secondo me è deludente cioè ragazzi mi aspettavo di più dai mi aspettavo qualche acquisto ha fatto un bordello questi sono Pede basta è una squadra che veramente regge la baracca lui perché altrimenti sono zero vabbè Juan Pedro Lopez aspettavo qualche acquisto mi aspettavo qualche acquisto qualcosa ragazzi ma il mio nuovo io non c'aveva detto quel cileno ci l'ha detto mille punti a livello di budget non avevano la possibilità di andare a prendere grossi hanno provato hanno provato Gunner Roglic prima del rinnovo con le proprie squadre e te l'ha detto anche quel cileno che comunque non è facile tutti gli anni questo per esempio è stato un anno dove il ciclomercato è stato poco nulla onestamente quindi tutti gli anni non è così ci sono gli anni dispari gli anni pari che fa tanta differenza il ciclismo invece la scelta di mandare la scelta di mandare al giro sia Pedersen che Stuyven Stuyven ormai Stuyven ormai perché probabilmente Stuyven non può più dire la sua nelle gare in cui la diceva e questo è il discorso secondo me con Van Aert Van Der Poel Pogacar che farà ora anche le pietre quindi Stuyven ormai lo vedo al limite della top 10 secondo me cioè Kung per esempio è molto più forte di Stuyven adesso su quelle gare lì non c'è paragone proprio appunto per dirne una a caso Kung è la top 5 che giustamente non ne sbaglia una non ne sbaglia una sto ragazzo cioè lui sono due mesi che non ne sbaglia una ogni cosa che dice però in generale no l'ha azzeccato tutti no l'ha azzeccato tutte le domande l'ha azzeccato cioè sa tutte quindi eh magari per il se ma figurati ma figurati il Gregario Stauffen il Gregario non lo può fare nessuno eh il Gregario non lo può fare nessuno anche Van Bird non so se avete letto l'intervista sì Van Bird che ha appena iniziato a fare Gregario ora già è in ebollizione perché dice eh io farò un'altra vita cioè nessuno vuole far più il Gregario quindi figuriamoci se Stauffen lo farà cioè non lo farà più nessuno il Gregario fra due anni saranno tutti ognuno perché si salvi chi può attingerai dalla Trek visto che dalla Cofidis niente dalla Trek io no no a dire il vero non sono non ci sono nessuno dei miei obiettivi grande Filippo ok io un paio invece sì ora questa cosa di essere completa sintonia con Mulla mi preoccupa perché sono più pesante di lui Schilmosi lo comprerei se costasse uno due no io Schilmosi invece a parte l'odio che ha fatto ha detto tutto di franzo quello che ha detto del giro d'Italia però comunque Schilmosi è uno interessante a parte tutto è uno interessante Schilmosi a nove Schilmosi o Jorgensen a nove ma vai ma vai in culo te Jorgensen vai Schilmosi andava bene a cinque lo prendevo guarda Filippo questa la devo mettere dentro la loperini peraltro e considerate che di corridori a uno a due che sono quelli che piacciono a me perché poi dopo danno soddisfazione ce n'era pieno la tattica di quest'anno la dico la tattica di quest'anno a costo di un suicidio tattico proprio è prendere solo corridori delle più o meno solo corridori delle tre o quattro grandi squadre il resto eliminano eh vabbè di solito si provava qualcosa io l'anno scorso già avevo cambiato la città in quel senso pensando che fosse un suicidio invece mi hanno portato tutti i corridori che ma vogliono sapere il nome della tua squadra quindi no ancora l'ho già detto che lo dici il 31 dicembre e non ho detto di quale l'anno quando i carabinieri verranno a chiuderci la live in diretta chiamati da signor c'è un blocco allora che tra l'altro parlavo oggi con un barista che per dei caffè secondo lui che è uno bravo a far caffè dice che il caffè sega freddo è il più buono in assoluto sicuramente a me non me ne frega niente del caffè io non lo bevo il caffè io lo trovo sublime assolutamente il più buono in assoluto il caffè sega freddo pagherà gli avvocati per quando la crete ci fai denuncia denuncia per cose perché ho espresso un mio parere sulla squadra del gioco un mio parere un mio parere personale una mia opinione personale sulla squadra all'interno di un gioco di un giuoco come dice qualcuno bastava dire una squadra che non mi piace no ma io volevo dire proprio questa cosa qui capito all'interno di un giuoco è arrivato alla tre e è finito nella giuocca perché era tanto che caricavo questa cosa capito quindi dovevo per forza sfogare voglio vedere cosa dici della Movistar riassunto non avete una bella squadra ma fate un buon caffè e fate anche belle bici riassunto educato diciamo si riassunto educato allora no ti mandiamo la lezione dal mullà allora prossima squadra indizio indizio in questa squadra è arrivato un corridore che ha vinto una maglia com l'anno scorso è facile e alpitur questo era facile perché l'arte l'avevano già fatta posso leggere? vai assolutamente sì il primo però non lo vedo Amadar Amadar 1 Alberto Bettiol 18 Bisseger 12 Caicedo 1 perché? no 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 leggevo i commenti Camargo 1 Carapaz 41 Simon Carr 1 Yucarti 15 Mitico Sepeda 1 Jave 7 Magnuscore 19 dai no ma c'è un'altro più bello The Bod 1 Owen Dole 2 Eiching 3 Honoré 17 Cocheler 1 Kudus 1 Mark Padun 5 Andrea Piccolo 6 Pauless 22 Queen 1 Ruc 1 Scully 1 Shaw 1 Steinhauser 1 Rigoberto Uran 18 Julius Vandenberg 4 e Marin Vandenberg 3 Devo rispondere a Matteo Macciò e dirgli che bisogna quest'anno bisogna proprio dragare il fiume bisogna proprio spiluzzicare proprio fino all'ultimo Spiluzzica? Sì sì Questo è il momento maiale di Silvatelle No no bisogna proprio davvero andare sul fondo proprio a a trovare qualcosa è quella la soluzione Padun quanto l'abbiamo quotato che non ricordo 5 questo forse è tanto è tanto però però se torna il Padun del Delfinato Vandenberg che ha fatto abbastanza schifo quest'anno non costava 2 l'anno scorso perché è diventato c'ha avuto l'inflazione per il discorso ce l'avevo anch'io credo credo non lo so guarda se ha sbagliato te la scrivo effettivamente No no è 3 è 3 eh vabbè non so che cazzo discussione è una vergogna Vissi che era 12 è salito no no è calato è calato è calato della mezza effettivamente cioè Vissi che non ha fatto cagare l'anno scorso hanno da diventare ah sì non ha fatto bene anche a crono è stato poco incisivo più che altro qui l'incognita ragazzi è Carapazzo 41 bene bene male male Carapazzo comunque non è andato male dovrebbe fare tour e vuelta ragazzi lui sì sì cioè non è andato male attenzione allora di grosse vittorie non ne ha fatte la vuelta ha vinto 3 tappe se non sbaglio sì 3 tappe però quando passi alle tappe dalla classifica insomma ho capito però te alla fine ti interessa i punti fatti durante l'anno poi sicuro vinco sì di quell'anno lì però poi per il futuro no perché se uno passa la classifica non la fa più è chiaro che rispetto agli anni scorsi è un Carapazzo leggermente ridimensionato perché comunque gli anni scorsi cioè oddio oddio fece poco c'è un errore comunque in queste scritte perché c'è Hugh Carty che ha scritto come si chiamasse Ugo in italiano Ugo Carty e tra l'altro l'ho guardato perché è una truffa paurosa a 15 ora ce ne stavo ripensando incredibile incredibile Carty accanto a Sepeda non so se notate un 5 di troppo anche un 10 però accanto a Sepeda fra l'altro cioè questo Carty 15 se peda 1 che non baffo d'oro unica certezza Magnus Court dov'è quanto costa 19 ragazzi comunque qualche punticino la portiamo a casa ragazzi attenzione alla resurrezione di Steinhauser Matti French un commento sulla quotazione di ma credo sia uscito dopo che è uscito Piazzano sono usciti sì sì assolutamente probabilmente Matti French è Piazzano che si autofende che si autofende ma se peda e Sosa 1 li prenderà qualcuno secondo me Sosa qualcuno lo prende qualcuno è invincibile irriducibile ragazzi se peda ragazzi se peda parliamoci chiaro è l'unico corridore che non ha fatto niente ma non mezza niente e da una professional è salito di livello in tutto in tromba e come se la tirava al Gran Premio Toscana al Giro della Toscana come se fosse non ha fatto niente è la cosa più spiegabile se peda come ha fatto andando in World 2 non lo so com'è possibile non ha fatto niente è bellissimo quando facevo un'intervista a Chavez che qualcosa nella sua carriera ha fatto quasi mi sono sentito imbarazzato ma lui è se peda e diceva sì io se era un Chavez dicevo sì ma e quindi chi cazzo è mi aveva detto io sono costretto a dire che anche qui non compro nessuno inizialmente nessuno no mamma mia Filippo Dati invece prenderai inizialmente prenderai di qui qualcuno ti interessa io ho una tentazione perché due anni fa presi Bissinger che un po' di punti mi fece eh due anni fa sì l'anno scorso invece delusione però non mi ricordo perché non l'ho preso non per scelta perché ho scelto altri e quindi era uscito fuori dalle considerazioni e ho avuto fortuna perché appunto però ora 12 potrebbe essere interessante bisogna capire devo andare a vedere un po' e poi la frase di Matteo Maccio potrebbe riassumere un po' tutto il ciclo eh ragazzi è grosso eh ascolta qui guarda fondamentalmente se dovessi rischiare su qualcuno rischierai su piccolo basta sì piccolo piccolo c'è a 6 rischierei che ha concluso l'anno in ottima in ottima maniera diciamo sì però a 6 comunque sono sempre 6 sono sempre 6 è vero avrà comprato tutti i corsi lingua per essere lì però è un rischio infatti perché l'ho considero comunque un rischio perché comunque 6 invece Wayne Dowl è un mio idolo che verrà però rinnegato quest'anno attenzione perché me l'hanno fottuto a 4 pensa tu 4 è un scandalo è un uomo fuga lui Dowl il mio idolo 4 e quindi lo rinnegherò sono arrivati altri meme da parte di Eugenio e quindi giustamente vanno vanno messo a proposito di vanno messo chi vince la finale mondiale domenica così un interleague mondiale di che? calcio quello sport inferiore chiamato calcio chi le vince io spero argentino ma credo che la Francia sia favorita ragazzi in chat vediamo un po' così giusto poi si presenta un'altra squadra così un escursus veloce più che altro un italiano che ti fa per la Francia non si può vedere scusate io conosco qualcuno però Davide Cesaroni dice Francia però questo è chi vince giustamente sono più forti come squadra sepulvera non so per quale motivo mi ha scritto sepulvera è perché argentino sì Ruanda il miracolo di Diego ci sarà di chi c'è speriamo i franzosi purtroppo argentino non commenta Dani quindi Francia purtroppo io ragazzi posso esprimermi che sono contento che non commenta Dani perché è eccessivo con tutto rispetto per Adani vedi come si può parlare in maniera come dire costruttiva allora sì potevo usare le parole che ha usato il Mullah prima sulla tipologia di telecronaca di Adani però è eccessivo perché comunque è l'esempio tra il magro e quello della Rai è un gruppo che commenta sulla Rai il magro essendo su Eurosport secondo me si può permettere un pochino più di apertura di battute così sulla Rai devi essere un pochino più abbottonato ci sta perché fa parte di una televisione di Stato poi può piacere o meno a me piace più il magro come potrebbe piacermi anche a Dani però in quel contesto lì della Rai è stato veramente eccessivo giusto così per sparare cazzate cioè è quasi noioso guardare una partita con questo che sta zitto mezz'ora e poi fa gommessi magari in una partita dove ha toccato tre palloni in mezz'ora e Dio ragazzi cioè così non è non è commentare calcio te ti spacci per uno che ne sa di calcio e parli solo dopo mezz'ora perché Messi tocca il pallone poi dico la mia allora vai su una televisione magari a pagamento come Sky come Eurosport dove ti fanno fare un po' cosa ti pare a quel punto di vista allora fai cosa cazzo ti pare però sulla Rai visto che comunque si paga tutti obbligatoriamente obbligatoriamente per me bisognerebbe mantenere un un decoro no da commentatore poi io non sono un giornalista la garra c'ha l'ua ecco dai ragazzi ma io devo io devo pagare 37 euro ogni tre mesi puttana maiala per sentire la garra c'ha l'ua eh non me la fa pagare la Rai allora io accetto ad anni che fa le telecomanze certo come per iroderà il cazzo ad anni commentare il marocco croazia agiale stasera trek Rai poi eh il problema è che da Sky è stato cacciato ora io non so se è stato cacciato o meno non mi interessa però alla Bobo TV si può permettere di fare personaggi in una certa maniera quando quando sei a commentare su una televisione di stato fai il tuo poi puoi piacere o meno ma fai il tuo non eccedere non no ma ragazzi ma cioè non è che io ho detto che non è un mondo libero è che ho detto solo che non so voi è piaciuta la persona che da Dani quando giova all'argentino no dai troppo eccessivo 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 è l'aggettivo giusto c'è un discorso anche di professionalità nel senso che io se voglio seguire una teletronaca magari a volte seguo anche su altri sport dei canali che quando una partita la partita ma non parlo di calcio parlo di altre cose anche magari non vedi neanche perché la Rai non te le trasmette eccetera e a volte è divertente comunque godersi anche una teletronaca un po' vivace ma quando vai a vedere su un canale nazionale appunto come dici te che dove si paga il canone uno si aspetta un livello diverso secondo me che poi non voglio dire che non abbia ma quello è un non lo non si vede no io sono d'accordo abbiamo espresso tutto il solito concetto fondamentalmente calcio guarda guarda potrebbe essere potrebbe essere potrebbe essere cos'è calcio si a Dani che commenta le partite di Messi calcio allora facciamo vedere i meme Moula rientra che c'è meme che è dedicato al cattivo meme ciclismo Moula Moula ciclismo Moula Moula ciclismo Moula mi devo trasferirlo guarda mi devo trasferirlo ciclismo c'è meme aspetta ma non penso perché voglio dire cioè siete meravigliosi i numeri 1 chi è lui che fai Eugenio 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 bravo Eugenio Struzziero Struzziero Sì ma Filippo non è che devi scrivere in chat privata lo puoi dire anche direttamente per 10 minuti non vorrei interrompere con il partito sentiti come a casa Filippo ti puoi offendere dire parolacce offende la chat anche noi anche noi ho capito ma fare la copia del Moula non è carino è giusto non mi trasferisco più perché perché no no vai 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 c'è la polizia dalla c'è la regia da dietro che mi sta dicendo di muovermi davanti allora giro lo schermo stai attento allora sì un po' sì prossima squadra è una squadra dove c'è un corridore vabbè la faccio facile che non ha la bandiera è rimasta solo una ce lo sono tutti esatto hanno già indovinato anche se non diamo indizi comunque indovinano quindi allora diciamo così stasera l'ultima squadra sarà a labora e poi seratone finale giovedì prossimo con recap delle professional i corridori interessanti e poi iniziamo in una maniera imbarazzante e poi finiamo con e poi finiamo con Ineos UAE e Jumbo ok quindi la prossima serata ci sarà da imitazione Vlaso è giusto all'aspetto no 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 me la sento me la sento no Vullà dai fallo per Filippo fallo per Filippo è vero come fa Filippo quando avanza Rita è così eh cioè sfido chiunque a dire il contrario Blas comandodici Dens Nico due Fabbro Matteo due Gamper P uno Aller otto Ighita trentasei Indlein trentatré Jungels quattordici Camna quindici Koch uno Conrad trentatré trenti Koretschi uno Lipovic uno Luz uno Meus Jordi nove Mullen uno Palser Mullen Mullen uno Palser uno Pollitt dieci Shackman l'uomo del Bertha 21 Schelling 2 Hudebrox 5 Van Poppel Danny 16 Blasov 40 Vals Vandal e Zierhoff uno questa è la Bora Hansgrohe vediamo un po' questo lo levo vai vai Mullen io ne compro uno costa 5 dai ma Mullen ma Mullen questa la vuoi fallire totalmente proprio si 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 l'anno scorso avevamo fatto bene Mullen cambia idea ah è stato l'ultimo acquisto della banda Bertacchini quindi ti sei ricchiuto su tutto ore 20 MES a 12 quotazioni esagerate Ighita Raffina a mano armata ragazzi ragazzi ha fatto tanti punti l'anno scorso è chiaro che chiariamo questa cosa ognuno deve individuare quali sono le truffe per quest'anno il gioco fa parte di una truffe nel senso che non truffe che sono state quotate più del previsto è che hanno fatto tanti punti per vari motivi ma non è detto che li rifacciano per me Ighita è cancellato la prima come Filippo Filippo ora ci abbandona Filippo di questa squadra chi ti interessa allora due piccoli da spendere poco Fabbro e Schelling per le fughe io Filippo se arrivi nei primi mille ti stringo la mano con i nomi che hai detto lo so sei libero o male 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 buoni 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 il gioco Sergio Sergio però le truffe le truffe non sono fatte volutamente le truffe sono fatte da questo tizio ha fatto x punti e quindi vale questo se poi si ripeterà e non è una truppa se poi si ripeterà non è una truppa se siete tutti convinti come me che non si ripeteranno magari allora non lo comprate in quel senso lì fa parte del gioco chi è più magari ingenuo ci casca lo prende perché dice ha fatto 3000 punti li rifarà mai una scommessa è così di ghita e shakma allora ascolta di ascolta è vero perché diventerà più difficile ovviamente sotto questo punto di vista è più difficile di punti di indley e punti di ghita ragazzi è bellissima diteli ma come si distingue no sono tutte dai shakma shakma c'è è una scommessa chiedono hotel books hotel books perché 5 chiedono io non mi espongo perché potenzialmente è come veneple potenzialmente è il giovane pronto ad esplodere è come a use o è veneple potenzialmente poi potenzialmente è anche un flop ma chiediamo a Lela Dani cosa ne pensa che tu fatti del lavoro Dani padre di Oz il sudamericano di vita il ciclista che va forte se lo regolino ma mi piace perché è sudamericano ragazzi i punti di Gita e i punti di Indle ha fatto 2300 parola ai dati Indle ha fatto 2300 punti parola finito quindi si parola ai dati ragazzi Indle ha fatto 2300 punti no Ighita 2699 Indle 2300 33 Ighita 2600 3700 2700 è giusto è equilibrato come dice che chi l'ha preso l'anno scorso ha fatto la scommessa del secolo chiaro chi ci ricrede ora il problema è che la scommessa la vince una volta ma due di seguito la solita no bravo si rigioca mai la solita schedina quando hai vinto allora 4 5 6 7 è arrivato il nome in classificità è stato praticamente il nostro range di paragone per gli scalatori è come un Venturini per i velocisti come? no insomma Nita Ighita è stato il nome in generale dei fantapunti fatti ragazzi è stato come punto di paragone perché è stato uno dei primi che abbiamo fatto secondo me o comunque dicono che il gioco sarà più chi è che l'ha detto ora quest'anno sarà dura dura il gioco sarà più difficile quest'anno il gioco sarà più difficile dice Marco secondo me non per questo non per questo perché tante sono truffe vanno solo riconosciute non sarà più difficile per questo sarà più difficile per i cambi che secondo me sono pochi pochi ragazzi Jung e Sbob l'ho fatto rinascere con il mio acquisto l'anno scorso di questi tempi eravate qua che mi offendavate Junges Junges intanto Junges Bob una vittoria perché nei supermercati irlandesi sono le truffe però le truffe le hanno create loro stesse perché il punteggio che hanno fatto quest'anno era alto alcuni anche se secondo me non sono corridori all'altezza ancora tante dice da denuncia comunque sono stati cioè per esempio Coraz sono stati calati tutti perché sono calati i cambi no è che ci sono più gare ci sono un po' più gli scambi e il tuo down under cambia tutto è anche per noi un esperimento gli scambi sono uguali a quelli dell'anno scorso ogni sei gare però ci saranno delle preposte o no o no no sono già state bucciate state bucciate allora praticamente è finita quindi dicemi no no pensaci te perché sai che è impossibile è impossibile intervenire sugli scambi quest'anno impossibile è un po' sì secondo me perché altrimenti sì gli scambi funzionano come l'anno scorso eh ma si perderà le ultime cinque gare se la gente finisce no no anche prima vedrai è un fetichista Dinkelberg 88,57 no a Rui Costa non l'ho comprato e quindi gli tifferò contro assolutamente nel supermercato irlandese 0,5 litri d'acqua costa 2 euro figa sì ma sì ma infatti guarda anche a Londra a volte conveniva a comprare la coca cola rispetto all'acqua sì ma in tanti paesi è una follia totale ma vabbè un'anticipazione sulle quotazioni di fratelli Johannes un fratello se lo puoi immaginare perché un fratello è stato super quotato a causa del beta sì io posso dire che un Johannes si incosta veramente tanto e quindi è stato cancellato dal gioco ma perché perché è molto probabile che la 1x faccia il Tour de France e quindi arriveranno sul podio no ma che potrebbe fare una top ten al Tour de France potrebbe anche essere tra l'altro ho scoperto in un articolo che si stava quasi per ritirare Johannes quale fratello come fratello quello buono perché ci aveva un manager lo diciamo la prossima settimana ragazzi la prossima settimana ci saranno delle quotazioni incredibili UAE INEOS Giungo e tutte le professional diciamo ci sarà una ventina di nomi interessanti per le professional facciamo una sintesi dei nomi interessanti per le professional e poi ci sono anche sempre gli svincolati insomma ospiti d'onore poi possiamo già avvisare ospiti d'onore per la prossima puntata le forze dell'ordine che verranno verranno in diretta in diretta in esclusiva a parlare con noi no verranno verranno ci sarà ci sarà la coppia guercilena Dani madre di Dios madre di Dios la garra charrua che giorno è live è giovedì prossimo allora però ti sta salutando eh Filippo Dati infatti Filippo ah ma adesso abbiamo finito mai si 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 chiude dai allora Filippo noi ti salutiamo allora la prossima volta che entri magari non lo so o inizio anno prima o fine dell'anno tra poco devi entrare in live ci devi promettere che io ti faccio entrare magari si inizia la live con una solo di piano volentieri ok mi fa sta promessa così dopo lo torniamo a prendere per un altro sistema le cose oggi tornavo tardi ma bisogna che metti largo di verso sennò viene un caos vai anzi se riesci a rienterpretarci shakerando di Rove al piano fatto in maniera classica spettacolo sparo l'ultima per l'ultima querela quindi riuscire a rendere la decente bravissimo devi riuscire a rendere decente shakerando di Rove ok me la devo ascoltare perché vabbè prova e ti paghiamo in venturini giustamente ciao buonanotte ciao 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 abbiamo toccato un momento altissimo stasera perché se Filipp viene con la versione classica al pianoforte di shakerando di Luke Rove non ce la può fare in un anno e mezzo però ce la può fare l'ultima volta che le abbiamo chiesto una canzone è scomparso un anno e mezzo e questo è l'errore forse speriamo che è sempre sotto quindi si sta sentendo si si sta ascoltando speriamo ma no speriamo che comunque per la partenza del tour 2024 a Firenze ce la potrebbe fare però e quando shakerando sarà dimenticata da tutti noi la riproporremo come gran classica io ci credo invece ci credo ma boh ragazzi stasera è stata una live molto molto divertente io mi sono divertito soprattutto un Simone che si è scoperto personaggio Velasco poi ci segue lui ci segue proprio è un fan no no ma gioca è grandissimo ci vediamo nel 2024 no l'ha anche dichiarata no no Filippo Filippo 2024 non si è ricorda nemmeno Rov che l'ha scritta nel 2024 Luke Crow Luke Crow shakerando Peter Luke Crow Luke Crow Luke Crow va buona ragazzi allora ci si vede giovedì lunedì c'è l'ultima live dell'anno con le pedarate su Rulli con Visconti e Bertha e io ragazzi con il Bertha in grandissima forma in grandissima forma perché ho chiamato anche il maiale prima Cesaroni ha dato perché ho chiamato anche il maiale perché su cosa pedula lui i Rulli prestati prestati un cia bici un cia bici prestati di tutto mettete lì da una parte ma è solo se c'ha voglia massi di su da mezz'ora 40 minuti in parte di lui si mette l'FTP a 1 così no vabbè quindi 18 e 30 c'è già il link ve lo spammo in chat anzi il link mi sto allenando alla grande per il 2023 ve lo spammo in chat aspettate un attimo che vi spammo poi ve lo metto anche sotto comunque notizie della settimana credeva non è che ci sia un gran che di notizie aspetta 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 no sbagliato tutto no sbagliato 51 ah sì no questo è l'evento è questo è cliccabile allora questo lì ho messo in chat poi si mette lo metto sotto anche in descrizione al video ma devi dare due notizie poi 5 minuti è l'evento è l'evento dove l'ultimo l'ultimo pedalato alla live che comunque visco ha dato delle nozioni interessanti ero il discorso quindi questo è quanto poi giovedì prossimo la live la super quotazione di Sagan anche tra l'altro poi Ineos Jumbo e UAE e poi notizie della settimana vai mullà ti lascio ultimi 5 minuti della serata vado lasciatemi parliamo delle notizie della settimana non è che faccio un monologo la prima notizia che ti tiro fuori è un anno fa cosa dissi cosa dissi quando venne fuori Girmai cosa dissi qual era l'obiettione secondo me la strada da seguire nel ciclismo investire in Africa chiaramente qui qualcuno più di uno disse che era una buffonata non è vero perché in Africa non c'è niente no è vero Lorenzo ti ricordi qualcuno si ricorda questa cosa o no la maggior parte della gente disse che era una buffonata perché non è vero in Africa non si può investire niente perché non c'è niente non si fa niente allora la notizia della settimana è che la INEOS ha aperto un'accademia di ciclismo dove si fa maratona in Kenya cioè nella scuola di maratona in Kenya loro ci hanno aperto un'accademia di ciclismo perché hanno visto che è difficile per i prossimi anni andare a scovare i talenti ce l'hanno loro in casa due o tre non è una cazzata sta sapendo c'è un'accademia di ciclismo nel paradiso della maratona in Kenya nella foresta di Kaptagat in Kenya dove c'è questo Kipchoge che c'è un campo di atletica leggera loro intanto l'hanno messa lì poi si vedrà magari non gli viene fuori niente però hanno capito la direzione a proposito degli accademia abbiamo parlato che italiani abbiamo parlato della Zwift Academy no non ne so niente come non ne sai niente no non mi interessa perché sono deluso il bandito preferisco i keniani nella foresta a dei buffoni su Zwift cioè no eh sì eh sì eh sì perché in fronte se si fa così per scherzo però questa osa così pubblicitaria per prendere professionisti ho disattivato io il microfono perché si sentiva c'è venuto fuori G-Wine G-Wine chi è il bandito non ci credo non ci credo il bandito è italiano e allora io ho visto due video su tre no mi diciamo che si chiama nome e cognome perché lo conosco io ma chi è Bergallito allora ci sta che se lui si chiama il bandito era il giorno stesso che io ho fatto il mortirolo due anni fa era uno che fece un tempo assurdo su Strava si chiamava il bandito sul mortirolo lui è lui la foto e un metro di maniera bravo alto copelli alle gambe ma questo video abbiamo dato tre in quattro minuti sul mortirolo ma chi è è lui è lui no no è lui è lui Luca Bergalito si vabbè è come Alex Bogna quello dell'anno scorso vabbè sono tutti bravi dai ascolta parliamo di cose serie a me non me ne frega niente ascolta cose serie aspetta vado a vedere su Maratonese aspetta vado a vedere su Strava io sono su quella direzione comunque vabbè intanto la Ineos ce l'ha aperta non l'ultima squadra arrivata Ineos Ineos squadra lì un metro e novanta può essere il corridore chiuso ciao non è uno di il bandito il bandito nei primi tre video ha vinto tutti e tre tutti e tre i giorni ma allora no ma è impossibile è questo qui che c'è la foto di Zorro ragazzi sì è lui è lui allora è lui era sul mortirone comunque speriamo c'è un video di GCN che fa una sfida con un altro che ha mille com in giro per tra l'altro tutto questo dalla chat di Telegram perché io non sapevo un cazzo di tutta sta storia allora è lui lui sarà il nuovo Hugh Car ti dicono ebbè che culo siamo 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 proprio una botta di ferro come ci chiedono siamo proprio e sta stracciando tutti praticamente però Mullala l'anno scorso ci credi di più in questa storia no io ci credo di più perché però poi ho visto poi ho visto Bognia e poi ho capito che insomma è tutta una versione pubblicitaria e basta eh ho capito 50 e 50 una volta gli è avvenuto uno siamo al terzo anno gli è avvenuto uno che aveva 26 anni e che purtroppo cioè probabilmente era stato sottovalutato non aveva avuto possibilità però poi per il resto mi sembra pubblicità però magari mi sbaglio non lo so non l'ho seguito quando c'è la finale la Mari la guarderò no ma guarda guardati i video di mezz'ora ci sono i video di mezz'ora no ma dimmi solo la finale quando c'è e credo domenica ne stanno mettendo fuori uno al giorno allora sto cercando di tornare dal profilo del bandito sul mortinoro per dire quanti minuti ti aveva dato sul mortinoro beh ma datti minuti a te non è che sia proprio un grande risultato non è che non è per offenderti personalmente però insomma hai preso minuti anche da un bimbino di 13 anni quindi chiediamoci cioè consigliamo allora Gronewegen ha perso che è un professionista Gronewegen ha perso da un bambino di 15 anni ma non ci capisco assolutamente niente perché sono tutti in inglese io capisco solo più o meno quando parla Vergalito che parla un inglese che è tipo il mio e quindi capisco solo in quei momenti lì tra l'altro potrebbe vincere potrebbe vincere potrebbe vincere no potrebbe vincere i primi tre giorni e ha vinto lui tutti e tre i giorni ma bene ho capito si è capito è bravo vediamo tutto il resto e tra l'altro anche nel femminile è tanta roba anche nel femminile in testa c'è un'italiana siamo a cavallo ragazzi è triste pensare che per arrivare al professionista devi praticamente pedalar in casa sudare in casa è un capito no ma guarda non è tutto una roba di ciclismo vero dai comunque dovrai avere dei numeri su Zwift no per sì però fanno anche le corse adesso almeno in quello che ho visto io poi fanno anche le corse le facevano anche prima l'hanno sempre fatta anche Bugna ha fatto la corse a B cioè no no stavo rispondendo a Fede dicendo che non è solo virtuale cioè fanno della roba sui rulli e delle prove invece sono cioè come nella bicicletta normale sì 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 ma è sempre stato sì sì però no io dicevo è triste ma no a parte poi speriamo che questo bandito qua arrivi nel World Tour sì che vinca un altro anno il Tour de France che per arrivare nel nel professionismo cioè non ci siano dei bravi dei bravi come si chiamano talent scout ma c'è bisogno di questa roba qui cioè io ma lui dice che se non ho capito male ha vinto un sacco di gran fondo una delle robe del genere ma sì perché ti ho detto che andava forte siamo alla frutta dai andiamo avanti su poi lo chiamiamo sto ragazzo io voglio voglio capire chi è se vince lo chiamiamo no vabbè ma io spero che vinca tutto però vabbè comunque questo sistema non mi convince però vabbè Bulla l'anno scorso però io mi ricordo che tu per questa finale di Zwift eri veramente sì e poi dopo ho intuito che era una cosa commerciale però vabbè cioè di marketing sì ma se vince sto Luca Vergalito che roba commerciale è che nessuno sa chi è no questa cosa di Zwift che uno che va su Zwift diventa professionista capito è un'operazione commerciale di marketing che roba che ridete nulla bene abbiamo messo giù questa diretta vado a vedere la terza tappa di questo Zwift Academy intanto possiamo l'altra notizia della settimana è che Valgren Michael è finito eh sì ufficialmente finito purtroppo dai possiamo dirlo purtroppo comunque ora ripartirà a maggio dice ripartirà a maggio finito finito ok cancellato dici tu lo dice lui è finito cancellato dal gioco almeno se nella development per il momento non c'è nel gioco l'altra notizia era quella lì che presero uno per uno cavendish che da la cosa lo sai che lo sai che lo sai che mullà questo lo sai facile doveva andare alla human powerade e poi forse invece andrà alla stana al posto di lopez sì sì ne abbiamo parlato con un simone che però non ne sapeva niente lo ha fatto finta di non sapere perché dicevi in okuro che non hanno mai avuto un velocista ci sarà un motivo vai lo sai che no prima si era parlato di Roglic e ho letto un'intervista abbastanza lunga anche su Willer Flitz che è quel sito olandese che è insomma abbastanza serio c'è questa intervista e mi sembra evidente che non verrà a giro prima si era accennato il discorso perché lui dice che ora muove appena il braccio e quindi è stato fermo tre mesi e quindi non sarà mai competitivo in primavera lui dice e per il giro probabilmente è troppo presto e questo è un ragionamento razionale che lui fa su una preparazione no su una programmazione in più ci metti che secondo me lui è veramente lui è veramente ossessionato dal tour secondo me lui da quella cronometro della planche è rimasto traumatizzato e lui ha la fissa cioè lui spera lui vuole andare al tour al 100% secondo me lui non farà non farà niente nella prima parte di stagione si preparerà completamente per il tour de France sperando che Vingegaard cosa probabile sia fallesca per prendere cioè per partire almeno non ti dico un gradino sotto ma per poi passargli avanti durante perché lui ormai è un grande rischio questa è la mia previsione vedremo se non andrà così questa è la mia previsione ho capito questa cosa qui ho capito tra le righe dall'intervista che è molto lunga molto lunga dove lui spiega tante cose insomma però io ho capito questo che lui ha l'ossessione del tour de France che gli è rimasta da quella cronometro e lui proverà fino in fondo a vincere il tour de France in tutti i modi e quest'anno se la prenderà con calma con la scusa dell'infortunio che non è una scusa perché alla fine è stato tre mesi e quindi sarebbe anche giustificato non andare a giro perché è troppo presto però c'è dietro anche quel discorso lì il fatto che lui spera che Binggaard non sia all'altezza e che lui comunque riesca a partire almeno quasi alla pari e che poi passi questo questo bandito c'ha il record su un pezzo di Cancano dove ha dato praticamente 20 secondi da Roglic al bandito da Corrad e 30 secondi 30 secondi a Nibali per dire ma questo bandito ragazzi io lo compro ma chi pergalito ti toccorrà metterlo speriamo effettivamente c'aveva peli sulle gambe nel 2020 sto guardando sto andando nel giorno in cui ho fatto il multi-roll lo deve trovare allora di Bernal vi rispondo io si sta allenando in modo abbastanza serio in quello della Colombia e non so se l'avevo già detto la settimana scorsa ha fatto un allenamento da 270 chilometri 7 ore alla velocità media di 35 chilometri orari ah sta bene questa è un'illusione Bernal anche questa è cioè perché continuare a coltivare le illusioni io una speranza ce l'ho Valgren no Bernal Valgren Bernal su Bernal comunque i Roglic ti devo dire che mi piace i Roglic cioè volevo concludere il discorso e poi va mi devo dire che mi piace i Roglic mi piace come mi piace come parla Roglic cioè è onesto capito se ti voglio dire a uno chi dice la sua mestà cioè per esempio gli dicevano ma te vuoi andare al tour eccetera eccetera ma il percorso che ti si addice no è quello del Giro d'Italia no in effetti per esempio lui ha detto a me mi piace comunque ma ha dato mezz'ora il valito su Mortirolo mezz'ora allora è un fenomeno guarda lo compro subito non ne posso fare a meno l'ho fatto in un'ora e 26 e lui l'ha fatto 57 e 45 eh ragazzi il bandito ma il bandito è uno scalatore quindi vabbè ragazzi un metro e 90 ok il nostro Aresman l'Aresman dell'Italians stavamo cercando uno scalatore vedi l'abbiamo trovato comunque ci chiedevano del percorso parliamo dei corridori chiedevano del percorso del Giro d'Italia ragazzi il Giro d'Italia è adatto a te più del tour e lui ha detto io non mi sono mai preoccupato più di tanto del percorso mi sono sempre preoccupato più del mio stato di forma no? quindi preferisco preferisco non guardare il percorso non preoccuparmi del tipo di percorso ma del mio stato di forma cioè secondo me comunque è uno che è uno che mi piace il bandito un minuto solo in meno in più arriverà quinto al Giro d'Italia davanti a Janirt davanti a Janirt un minuto solamente di distacco però dal mortirolo versante quello di di Mazzo versante di Mazzo quello quello duro cioè questo va io mi ricordo vedi il tempo come cazzo ha fatto sto a darmi mezz'ora ma che vedi una foto con peli sulle gambe anche abbastanza tipo yukarti sto andando su c'è il motorino la bicicletta pensai invece sembra che questo sia forse nell'episodio 2 ha tenuto anche uno scatto di Van Der Poel io non commento più questa cosa bandito bandito alla fine il nostro 25 da grandi giri lo troveremo grazie alla Swift Academy probabile molto 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 probabile guarda probabilità 0% invece era vero 25 25 anni Luca Vergallito ah finiamo con le news Mulla poi ci sta magari scelta la Wenta ma perché non è uscita il percorso con Angliru Turmalet Andorra e Covadonga anche ha detto che sarà il percorso più bello degli ultimi di tutta la storia della Wenta Mulla piace questo elemento una cronoscuola iniziale e una cronometro la seconda settimana la Wenta la vince Aiuso la vince e Mas Aiuso perché Mas darà tutto a Tur e poi fallerà e Aiuso vincerà la Wenta a 20 anni il più giovane vincitore me la sento me la sento me la sento Mulla ti chiedono notizie sull'asta con quiz cioè a me veramente dicono Berta mi sembra io non ne so niente allora sei un uomo di quiz sì ma non ho capito dicono Berta Berta i News io faccio la domanda a te Asta con quiz cos'è praticamente per fare i quiz per partecipare all'asta tra di noi l'asta del team se non ho capito da lui qui sopra qui no ma che ce l'ha detto di fare Waietour ormai siamo che cos'è questa non ho capito no ora si guarda se ci si fa a fare a organizzarla ok se no si partirà magari dal Waietour però i quiz sono made in Mulla eh sì 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 poi Mulla aveva detto che comunque la bica lì forse non avrebbe partecipato ma avrebbe fatto solo il giudice battitore a quale voleva ora l'asta pazzo ok si fa va bene no veramente io avevo detto che non partecipavo a quella lì che dici ti vuoi fare quella con i follower forse non ci siamo capiti con i follower sì vabbè allora faccio però vabbè l'asta pazzo comunque parteciperai in qualche maniera se non fai la squadra in qualche maniera però fai l'asta quindi si farà l'asta tra di noi noi quattro e più si prenderà due o tre della chat sapete che io comunque non riesco a starci dietro a tutte le stesse squadre non so come il Bert quindi non garantisco niente cioè perché io il campionato lo faccio è una una lega sì poi di più non garantisco non garantisco cioè posso fare dei disastri cioè garantisci spettacolo lo faccio piuttosto per stavere nuova che questo è un grande McNulty mi sembra è uguale a McNulty è uguale a McNulty è un misto tra McNulty e Yucart il bandito no a me mi sembra è uguale a McNulty forse è McNulty per quello va abbastanza e cosa c'è la misura è la terza volta che me lo chiedo di vostro ragazzi non lo so non lo conosco voglio dire l'ultima notizia poi mi chiedo la notizia della settimana è anche questa le febbre che ogni tanto sapete che se ne esce che se ne esce con delle dichiarazioni importanti no veramente no guarda mi puoi dire tutto ma non non questo perché non ce la faccio neanche a seguire due squadre figurati di sei le febbre su Alaphilippe importante questa l'ha dichiarata l'ha tirata ragazzi non è che cioè su Alaphilippe non è che l'ha detta su Bambilder su Stinstells cioè l'ha detta su Alaphilippe ha detto non mi interessa Defebbre non mi interessa che non sia più campione del mondo ma negli ultimi anni non negli ultimi anni ha vinto poco ha proseguito sì ha avuto molta sfortuna ma sono sempre le stesse persone che sono fortunate e le stesse persone che sono sfortunate e non ha tutti torti perché è vero no cioè le sfortune succedono sempre a soliti quindi praticamente ha detto che Alaphilippe ha uno stipendio da campione e quindi deve dimostrare di essere un campione altrimenti taglia lo stipendio oppure prende la via di una squadra francese la total prende la via di una squadra francese senza fare nomi deve giustificare quest'anno eh sì quest'anno però non ha detto quest'anno ha detto negli ultimi anni cioè che ha vinto poco poco cioè che praticamente ha detto cosa ha detto ha detto che lo paga più di quanto gli rende tornerà il Alaphilippe di una volta chi l'ha detto vediamo io il Berta la sentenza del Berta è strafinito ecco strafinito sentenza nulla sì ragazzi ultima ultima news avete 40 secondi per dirla no basta ho finito non ce ne sono più lo sai che è finito qua allora è bello vedere qual era il link da vedere cioè c'era un bell'articolo di spazio ciclismo dove dicevano del ciclo cross che ora c'è quello che si parla di ciclismo quale no dicevo del link di spazio ciclismo questo articolo dove raccontavano praticamente ti fanno vedere dove per tutto l'inverno fino a febbraio dove si incontreranno i tre tenori il prossimo è sulle nevi italiane no e praticamente ora hanno fatto avresti visto per le altre gare dublino ora c'è la Vardisole però c'è solo in Italia c'è solo Van der Poel poi ci saranno cinque gare in cui ci saranno tutti e tre cioè il 23 il 26 il 27 il 28 e 30 quindi un ottimo fine dell'anno un ottimo finale dell'anno su ciclo cross perché nonostante ciclo cross non mi piaccia particolarmente non so quando ci sono tutti e tre vabbè sono poi due quindi Maul Gavert ha dimostrato a parte ha vinto il campionato del mondo senza nessuno senza loro però quando ci sono quantomeno i due per i primi giri c'è un po' di battaglia poi uno dei due di solito Van der Poel se apre il gas arrivederci però Van der Poel sta puntando dice sulla salita le classifiche cioè comunque 23 26 27 28 30 appena finisce si chiama le date sono questi dovrebbe finire questa settimana in teoria poi si chiama si chiama a live comunque le date sono queste ragazzi così così pronto bandito ciao scusa bandito puoi venire in live bandito chiamiamo e gli dico se non c'è come è stato darmi solamente mezz'ora sul mortirolo va beh ragazzi 12 minuti e fare il Monteserra non credo però andrà sui 16 16 17 con quei tempi dissi ragazzi ciao ci vediamo il prossimo con Jumbo Wae e Ineos e Sagan e il bandito ciao buona notte non c'è ancora nessuno il bandito certo è lui in primis lui poi gli altri vengono dopo ciao a tutti ciao